Buongiorno a tutti, bentornati a chi già ieri ha partecipato a questo nostro seminario. Benvenuti a coloro invece che si sono uniti questa mattina. Ieri abbiamo iniziato, mi pare, in modo eccellente, non tanto per il dibattito che è stato molto vivace e credo che abbia sottolineato il senso di questo seminario e dei seminari del mestiere di storico come momenti di confronto, di discussione, di approfondimento su questioni che riguardano il nostro mestiere di storici, che riguardano la ricerca e la storiografia. Ieri ho detto che mi sarei riservato di fare i ringraziamenti nuovamente alla presidenza di questa sessione. Il primo ringraziamento che dobbiamo fare, credo, da parte di tutta la redazione e immagino anche dei relatori ad Agostino e a Giorgio, e all'Università Cattolica, che hanno ospitato in maniera molto generosa questo nostro incontro, ma anche, come dicevo ieri, per il contributo che hanno dato affiancando la redazione nel lavoro di riflessione e di messa a punto del tema del nostro seminario e del programma. Quindi questa espressione di gratitudine non è un passaggio formale, ma credo che sia un passaggio effettivamente nel clima di questo seminario. Ecco, non è una sede solamente che ha ospitato, e già sarebbe molto, perché ha ospitato appunto con larga generosità, ma è una sede nei colleghi contemporaneisti che siete stati interlocutori fecondi, ecco, del nostro impegno a focalizzare il tema, ecco, perché credo che quello sia stato un elemento importante, cioè la focalizzazione del tema credo ha permesso anche a tutti i relatori di trovare il taglio giusto. Ma qui mi fermo e ringraziamento poi a tutti voi che siete presenti, come direttore alla redazione che partecipa con passione e impegno al lavoro della rivista e anche al lavoro legato a questo seminario. Questa seconda sessione ha un titolo, l'Europa nel mondo. Sono tagli diversificati, ma complementari, e quindi in qualche modo vanno nel segno di quanto in sede di dibattito ieri opportunamente richiedeva il professor Vigezzi, cioè di provare a raccordare i vari punti di vista in una trama di questioni, di riflessioni unitaria. Quindi, dicevo, sono dei punti di vista diversi, ma complementari, appunto, nel provare a ragionare sui paradigmi interpretativi e storiografici relativi alla storia d'Europa, dal punto di vista di questa prospettiva oltre l'egocentrismo, nella prospettiva, appunto, del rapporto tra l'Europa e il mondo. La prima relazione è del nostro padrone di casa, di Agostino Giovagnoli, il titolo è l'Ecumene Euroafrasiatica. Non credo che ci sia bisogno di presentare il profilo di studioso del professor Giovagnoli. Vorrei solo ricordare un suo lavoro, direi, pioneristico, ma anche raffinato, che è stata una prima riflessione, perché credo sia del 2003, su storia e globalizzazione, in cui alcuni dei temi che oggi trattiamo ebbero una prima analisi da parte di Agostino. Quindi credo che questa tua relazione sia nel solco di una riflessione non nuova, ma che è stata per te motivo di studio, di letture, di pensiero già da tempo. Quindi ti ascoltiamo con grande attenzione. Dico a tutti i relatori, noi abbiamo dato come tempistica i 30 minuti. Se qualcuno riesce a stare in qualche minuto o meno, questo può essere utile per favorire, dare più tempo alla discussione, ma non è un obbligo, diciamo. È così una moral suasion. Grazie per questi raffinati complimenti e anche per questi garbati inviti. Io ho fatto già ieri i miei ringraziamenti al Ministero di Storico, alla redazione, al suo direttore, quindi li rinnovo volentieri, ma appunto non insisto su questi. Io, più che dal mio libro del 2003, che appunto essendo il 2003 ha qualche anno, vorrei partire dalla discussione di ieri, di alcune considerazioni che sono state fatte ieri e su cui mi trovo in grandissima parte d'accordo, diciamo. Ma anzitutto sottolineo uno stimolo che mi è sembrato molto interessante, cioè le varie relazioni hanno sentito tutte le esigenze di partire dai grandi temi che sono oggi in discussione, non solo fra gli storici, ma nel dibattito pubblico, i grandi temi che inquietano il nostro tempo e che potremmo, come dire, potrei riassumere, qualcuno l'ha anche evocato ieri, diciamo, dal passaggio, dalle reazioni del 1989 al caduto del muro di Berlino e poi il collasso del blocco sovietico, interpretato come un grande triunfo dell'Occidente ha una sensazione pressoché opposta, cioè oggi invece, ieri i russi parlavano di Finis Europa. Peraltro mi ha fatto venire in mente che Benedetto Croce esattamente un secolo fa, nel 1919, scriveva sulla Finis Europa. E quindi ci troviamo di fronte a un tema singolare perché ci appare di estrema attualità, ma evidentemente c'è un dibattito che va avanti da almeno un secolo sul tramonto dell'Europa, insomma, Spengler e via dicendo. Ma questo, come dire, è giusto per fare un riferimento che credo abbia una sottilità nell'aiutarci a prendere un po' le distanze, sia dalla sensazione trionfalistica dell'89, sia dalla sensazione invece catastrofista attuale, anche perché non ci troviamo di fronte a quegli eventi storici che parlano con grande chiarezza, che so, uno scontro militare, una guerra, vincitori e vinti da una parte, un'occupazione coloniale, insomma, un confronto diretto, ecco, in cui ci sono chiaramente vincitori e vinti. Stiamo parlando di qualche cosa che sicuramente è vero, diciamo, in termini di spostamento di potere, lo dico in termini estremamente generici, dall'Europa al resto del mondo, ma che è anche non facilmente descrivibile, quantificabile e così via. Comunque resta il fatto che c'è questa sensazione di fondo. Nel 2011, lo storico scozzese americano Ferguson, in Occidente ascese e declino di una civiltà, si domandava, ci troviamo davvero alla fine del mondo occidentale soglie di una nuova epoca orientale? E la sua risposta era netta. Stiamo vivendo la conclusione di 500 anni di predominio occidentale. Quindi, in effetti, gli storici hanno cominciato a ragionare già da un po' su questo declino dell'Occidente e ascesa dell'Oriente. Peraltro, ovviamente, bisognerebbe poi, cioè, non, bisognerebbe, insomma, il dibattito su cosa significa la parola Oriente, naturalmente, è enorme e non... e non lo accenno soltanto. Altra sensazione, da cui sono partiti molti nostri interventi e continuano anche oggi, cioè, che ruolo hanno gli europei nel declino dell'Europa? Cioè, è qualche cosa che viene dall'esterno o è anche una sorta di autodistruzione, uso termini un po' forti, di cui anche gli occidentali sono parte. Anche queste sono suggestioni che ci vengono un po' dalla cronaca, direi, di questi giorni, un G7 non particolarmente riuscito, a dir poco, e così via. Questi punti mi inducono a fare altre tre brevi riflessioni, sempre sul dibattito di ieri, di carattere storiografico. La prima, lo diceva esplicemente Adriano, ma mi sembrava presente un po' in tutti gli interventi, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'Europa o dell'Occidente? E mi pare che ci fosse una certa coincidenza, diciamo, convergenza, perlomeno, nel considerare i due termini strettamente legati e forse attribuire all'Europa il ruolo di cuore storico dell'Occidente, da intendersi ovviamente nel senso poi più ampio, comprendendo Nord America, eccetera, eccetera. E quindi, legato a questo, l'interrogativo di quando è nato tutto ciò, ecco, in fondo la reazione di Lele e Romanelli era anche su questo, cioè quando nasce l'Occidente, come lo intendiamo noi. Ecco, Ferguson parla di 500 anni, forse Lele andava un pochino più indietro di un paio di secoli, se non sbaglio. Comunque c'è questo problema storiografico aperto. Un secondo interrogativo è ovviamente il rapporto tra Occidente e modernità, questo, ci sono intere biblioteche, ieri ce ne ha parlato Tagliaferri sostanzialmente e questo credo che ci introduca anche alla questione dell'eurocentrismo. Diceva, ci chiedeva giustamente il professor Vigiezi, ma in che senso oltre l'eurocentrismo? Io qui vorrei un po' difendere questo titolo, no? Perché secondo me in realtà da una parte c'è una critica dell'eurocentrismo che possiamo dare per assodata, che accettiamo tutti, nei suoi aspetti scientifici, cioè è chiaro che non possiamo accettare una visione ideologica che è stata sottesa a tante visioni eurocentriche. E il tema della modernità è rivelatore da questo punto di vista perché nessuno mette in discussione che c'è una modernità occidentale che ha avuto un ruolo fondamentale, ma chiaramente ci sono altre modernità o altre vie alla modernità. Ecco, quindi è chiaro che in questo senso credo che su questo immagino ci sia una certa convergenza, almeno sulle linee generali. D'altra parte sono anche un po' d'accordo a mettere da parte la critica dell'eurocentrismo anche per un motivo non particolarmente entusiasmante, cioè il fatto che forse oggi non è più di moda. Voglio dire, questo è stato un grande tema nell'epoca della decolonizzazione o subito dopo, quando il parere degli occidentali sul resto del mondo era molto importante, che cosa pensano oggi gli occidentali del resto del mondo se sono più o meno eurocentrici, ma forse conta meno purtroppo, diciamo, quindi non abbiamo neanche, ci hanno tolto anche il giocattolo dell'autocritica che era anche un modo di continuare ad essere protagonisti, diciamo. E infine, ultima considerazione di carattere storiografico che ho colto dal dibattito di ieri, è la scelta del lungo periodo, cioè non è ovvio né abituale che quando si parla di tematiche contemporanee e noi stiamo parlando di tematiche contemporanee, questo è un seminario della Cisco, si faccia una riflessione di lungo periodo, si cerchi di applicare le categorie storiografici di lungo periodo. Questo è molto interessante, vuol dire che abbiamo la sensazione di trovarci di fronte a una svolta epocale per certi aspetti, che quindi mette in discussione non solo quello che è successo ieri, l'altro ieri, un secolo fa, ma ci obbliga a un confronto con quello che è successo nel XIII secolo oppure a Bisanzio e così via. E vabbè, queste sono le mie reazioni, se volete, al dibattito di ieri su cui ho poi cercato di sviluppare alcune riflessioni invece più specifiche inerenti al tema che mi è stato assegnato. Ora, quello che vorrei dire è che, ecco, io mi allaccio all'intervento di Lele Romanelli e alla questione che lui ha posto, che mi sembra molto interessante, l'allargherei un po', diciamo, nascita del modello dello Stato nazionale. Io l'allargherei al contorno, cioè nascita di una cultura, di una civiltà di cui il modello Stato nazionale è un'espressione particolarmente significativa. E quindi, ecco, dicevo già prima, quando nasce tutto questo, in che contesto, e via dicendo. Ecco, tu dicevi, nasci in un contesto in cui ci sono tanti mondi perché ci sono mondi, la Cina, c'è i regni africani, eccetera, eccetera, i regni pre-spagnoli in America, e via dicendo, ma sono mondi separati gli uni dagli altri. Ecco, questo, io credo, è un tema su cui riflettere. E' vero che c'è questa separazione, ma fino a che punto è assoluta, è totale questa separazione o invece ci sono anche delle altre dinamiche. E qui, appunto, ovviamente il discorso sull'ecumene euro-afro-asiatica. Di questo gli storici hanno parlato tanto. Già Toynbee ne parlava, McNeill, Olson, Bentley, eccetera, eccetera, hanno usato questa espressione per alludere a un contesto di collegamenti che hanno interessato i popoli dell'Asia, dell'Asia orientale, la Cina, dell'Asia centrale, via via fino a giungere al Medio Oriente e all'Europa, lambendo però anche l'Africa, diciamo, in questo senso euro-afro-asiatica. Anche se il discorso è precedente, però la via della seta è stata certamente una delle espressioni più significative di queste ecumene. Intorno alla via della seta c'è una storia lunghissima, millenaria, di contatti che in effetti vanno da Sian a Roma. La seta faceva questa strada. E intorno alla seta tutto, gli uomini, le donne, le merci, e poi i missionari, eccetera, eccetera. Ecco, quindi, per dirla con Bentley, raramente deserti, montagne, oceani hanno costituito poco più che ostacoli temporanei ai viaggi e alle comunicazioni umane in quest'area. Che è un'osservazione molto interessante, no? Cioè su come deserti, montagne, oceani, alla fine si possono superare e sono stati superati abbondantemente. Qui c'è una storia che è certamente molto complessa, le tracce possono sembrare a volte non molto evidenti, ma in realtà è una, come dire, le comunicazioni lungo questa via e tutto ciò che poi si è caduto intorno a questo, regni, imperi, eccetera, eccetera, sono stati sicuramente una realtà importante. L'ecumene euro-afro-asiatica non corrisponde a una civiltà euro-afro-asiatica. Parliamo di tante civiltà, ma sono tante civiltà che sono entrate in rapporto fra di loro. Poi dirò qualcosa sul tipo di rapporto, meglio farò dire a alcuni storici qualcosa su questo tipo di rapporti. quello che vorrei sottolineare subito però è che questi rapporti sono, tra le varie civiltà della grande ecumene euro-afro-asiatica, sono rapporti incentrati sugli uomini e sulle donne, più gli uomini che le donne, che percorrevano la via della seta, che poi non è una sola, ma è un reticolo di vie, eccetera. Un'ovvietà. Sì, è un'ovvietà, però è un'ovvietà importante perché i rapporti fra le civiltà e le culture, e oggi poi in fondo di nuovo ragioniamo di questo, perché quando diciamo il modello dello Stato nazionale, sì, no, eccetera, parliamo di rapporti fra civiltà, fra culture diverse, non sono rapporti fra culture, sono rapporti fra uomini e donne che sono portatori di universi culturali. Le culture non dialogano, sono gli esseri umani che dialogano, litigano, si parlano, non si parlano, oppure fanno tutto questo insieme, contemporaneamente in una grande confusione. Lucet Bonnois, che è una delle storiche che ha studiato la via della seta, parla dei passers, identifica con questa parola il popolo della via della seta, che è volontariamente, è involontariamente un popolo di passers, parola che si dovrebbe tradurre con traghettatori, ma che, come ha notato giustamente Andrea Riccardi, è in realtà in francese molto più ricca delle traduzioni che noi ne facciamo, diciamo. E quindi, ecco appunto, Passer è il contrabbandiere, Passer però è anche il mediatore culturale, in un certo senso, è l'uno e l'altro insieme, e così via. Altro elemento che vorrei sottolineare è che questo tipo di contatti culturali lungo la via della seta è venuto principalmente via terra. C'è anche una via della seta marittima, ma quello che mi sembra interessante sottolineare è soprattutto l'importanza dei collegamenti via terra. E questo è importante perché, come dice Osterhammel, procedere via terra non significa immergersi all'improvviso in un universo completamente estraneo, ma attraversare molte frontiere, cioè praticare un tipo speciale di contact situation, cioè due collettivi di diversa origine e orientamento culturale che si incontrano in processi di scambio in cui si combinano conflitto e cooperazione in proporzioni variabili. Contact situation. Le tappe delle carovane lungo la via della seta sono tappe al massimo di 20 km al giorno e quindi sono viaggi molto lenti in cui la dimensione dello spazio e del tempo è molto importante e questo ha una ricaduta sul tipo di relazioni interculturali che si stabilisce molto importante perché evidentemente comporta un osmosi costante fra le culture, non un impatto violento, immediato, eccetera, eccetera. Un po' più forse romanticamente McNeill sottolineava appunto questo tipo di contatti e di situazioni come qualche cosa molto importante che concerne l'interazione culturale fra diversi popoli quale motore di innovazione e suggerisce addirittura la possibilità di una storia delle civiltà non come corpi autonomi e separati torniamo al tema della separazione ma come partecipi di una comune narrazione storica. Quindi non una sola civiltà tante civiltà ma è possibile fare la storia dei rapporti fra le civiltà il che mi sembra molto interessante perché generalmente si praticano le storie interne alle civiltà quindi questa è un'altra dimensione. Un esempio fra tutti ma poi vado veloce per rispettare i tempi l'area centro-asiatica fra l'ottavo e il dodicesimo secolo qui ci sono culturi che parleranno meglio di me Melis ecco che ci parlerà no lui parlerà del Mediterraneo ma credo che ci dirà qualcosa anche sull'area centro-asiatica non mi dilungo su quest'area centro-asiatica ma soltanto prendo spunto da un libro di Frederick Starr ringrazio la professoressa Giunippo di avermelo segnalato che è molto interessante è un libro del tutto affascinante sull'illuminismo perduto cioè la storia di quest'area con una storia straordinaria di una grande comunità di intellettuali che per alcuni secoli ha prodotto una fioritura filosofica scientifica ma anche poetica artistica eccetera eccetera tanto lui che usa la parola illuminismo si tratta di popoli teoricamente sottomessi all'influenza arabo-islamica ma Starr usa una vecchia espressione che ci hanno insegnato sui banchi di scuola Grecia capta ferum victorium cepit e questo è molto interessante perché la storia delle relazioni interculturali è un po' sempre così cioè è sempre una storia di qualcuno che vince dal punto di vista del potere ma poi i rapporti culturali sono tutta un'altra cosa i franchi occupano la Gallia ma alla fine la Francia di oggi è più franchi o più Gallia no? cioè ecco e così via no? e questo io credo che sia anche una grande lezione per l'oggi poi lo dirò alla conclusione diciamo cioè dobbiamo stare attenti a comprendere la complessità dei processi culturali che non coincide con la complessità dei processi politici militari eccetera eccetera e quindi ecco non mi dilungo su queste popolazioni centro-asiatiche che apparentemente sottomesse in realtà poi sono vincitrici almeno così sostiene Stara in parte anche dal punto di vista politico nella capacità di influenzare Baghdad che non è più dove si sposta il califato da Damasco a Baghdad anche questo è un segno diciamo dello spostamento verso il Centrasia e quindi anche della relatività della vittoria arabo-islamica su quest'area del mondo e qui vabbè niente qui basta salto ovviamente invece più avanti e vengo appunto all'inizio dell'Occidente che collochiamo nel tardo-mediovevo inizio età moderna allora quello che voglio dire è che questa storia precedente non è irrilevante per fare anche la storia successiva nel senso che a me pare che questa storia che comincia fine medioevo o così via sia anche il frutto della interruzione di rapporti che costituivano parte integrante di questa ecumene euro-afro-asiatica la via della seta non è più percorribile dal XII-XIII secolo se non sbaglio e perché non è diventa troppo pericolosa perché non c'è più come dire quegli equilibri di potere che la rendono sicura eccetera eccetera quindi una separazione forte fra l'Europa e l'Asia che poi diventa diciamo con la fine della Pax Mongolica sostanzialmente e quindi a nord c'è un impero un regno russo se non sbaglio che poi diventa impero russo che rende molto difficili i contatti ci sono queste avventure interessantissime di viaggiatori che arrivano fino all'Asia scusate alla Cina ma sono poche poche unità passando per Mosca e poi c'è l'impero ottomano l'impero ottomano che forse perché erede dell'eredità bizantina è una fortissima statualità e rende molto complicati anzi impossibili i rapporti da quella parte lì diciamo attraverso il Mediterraneo e via dicendo quindi un grande muro fra est e ovest qui ecco c'è una questione storiografica ieri tu citavi Pirenne Pirenne anticiperebbe tutto questo se non sbaglio all'ottavo nono secolo però io credo che anche questa cesura abbia avuto la sua importanza perché forse il mondo arabo qui io non sono un esperto mi rimetto gli esperti però almeno la storia della vita della seta che cosa mostra che il mondo arabo islamico è un mondo più permeabile di quello che si può pensare anche l'illuminismo centrasiatico è un illuminismo musulmano questo è molto interessante cioè sono tutti musulmani ma è un islam molto amico della ragione quello appunto di cui parla Star tanto amico della ragione che i filosofi musulmani del centrasi ragionano su Platone su Aristotele cioè veramente un coacervo di contatti estremamente interessanti che mostrano appunto la continuità dei rapporti est-ovest fino ripeto a quando finita la Pax Mongolica si crea un blocco molto più ampio allora la mia domanda è questa ma questa separazione fra est-ovest che ruolo ha avuto poi nel determinare gli sviluppi successivi ieri Lele ci diceva ma noi nelle costituzioni europee non troviamo nulla che riguardi i rapporti con i popoli colonizzati e questa è una separazione molto interessante dal punto di vista come dire giuridico dal punto di vista però culturale più ampio c'è un nesso fra come dire questa separazione che rende l'Europa più occidentale e l'espansione occidentale nel senso cioè l'espansione di un'Europa via mare che conquista le Americhe eccetera eccetera ecco io credo con qualche nesso ci sia cioè che in Europa c'è una rivoluzione culturale alla fine del Medioevo c'è una rivoluzione culturale che è una rivoluzione o all'inizio dell'età moderna forse per essere più esatti che è una rivoluzione religiosa che la riforma che non è una cosa da poco più o meno Max Weber ci insegnava che l'inizio del capitalismo moderno è frutto anche di questo cioè c'è una rivoluzione culturale che attrezza in qualche modo gli europei a diventare occidentali premessa dell'iniziativa dell'Europa per occidentalizzare il resto del mondo che vuol dire occidentalizzare il resto del mondo la grande avventura che passa per la via dell'Ovest perché poi la grande novità della modernità europea è questa è la via del mare o meglio la via dell'oceano perché ovviamente l'Atlantico non è il Mediterraneo diciamo mentre quello che abbiamo detto sulle ecumene euro-afro-asiatica è una comunicazione via terra e questo fa una differenza enorme a parte che il viaggio oceanico è un viaggio terribile traumatico la morte in faccia la vedi in continuazione eccetera eccetera ma ha ammesso che arrivi arrivi senza incontrare nessuno cioè non c'è quella quelle conctate situation di cui ci parlava Austenham e quindi la colonizzazione la colonizzazione è come un riportare immediatamente nel luogo d'arrivo la tua società di partenza per forza voglio dire i quelli cosiddetti nestoriani che poi in realtà si dovrebbero chiamare cristiani siriani i quali arrivano in Cina portano il cristianesimo un cristianesimo molto modificato dai tantissimi contatti culturali che ci sono stati nel frattempo il portoghese o lo spagnolo che arriva nelle Americhe è esattamente il portoghese dello spagnolo che è uscito di casa per imbarcarsi e arrivare se ci è riuscito diciamo ovviamente e quindi ecco qui tutto il discorso appunto sulla nuova Spagna sulla nuova Inghilterra che anche nei termini evocano questi modelli trasportati naturalmente i modelli trasportati sono diversi dall'originale perché poi il tempo incide gli sviluppi eccetera eccetera ma adesso non voglio perdere tempo in questo faccio solo un rapidissimo accenno a un altro percorso che però è sempre un percorso dell'Ovest che è per andare all'Est cioè per andare in Oriente bisogna passare per l'Atlantico a questo punto e si fa il capo di buona speranza eccetera eccetera per cui poi prendiamo il caso dei missionari gesuiti poi si arriva a Goa a Macao all'Isola e poi però anche lì un viaggio via mare e quindi il meccanismo è lo stesso Matteo Ricci si porta con sé Cicerone Clavio cioè tutto quello che gli hanno insegnato al collegio romano dove ha studiato alla fine della seconda metà del Cinquecento e questo propone i cinesi però però ci sono diversità enormi naturalmente perché Matteo Ricci non fa parte di un'espansione coloniale va da solo o con pochi compagni e ovviamente i rapporti come dire di forza col contesto perché incontra una classe dominante molto attrezzata che ovviamente è quella dell'impero cinese delle istituzioni forti e quindi è chiaramente tutto un altro tipo di rapporto e anche perché Matteo Ricci da Macao a Pechino ci mette ci mette 15 anni mi pare e quindi fa un lungo viaggio via terra scusate se insisto su questo ma mi sembra che il discorso via terra o via mare sia poi in realtà una grande chiave per capire questi due tipi di contatti interculturali chiamiamoli così il discorso è lungo bisognerebbe poi parlare di un altro colonialismo quello otto novecentesco non ne parlo se ne è parlato già ieri anche quello ha naturalmente le sue caratteristiche diverso sia dal colonialismo precedente sia da tutti gli altri aspetti ma insomma il discorso è lungo il discorso è lungo e quindi mi avvio a concludere chiedendomi se in fondo noi non dovremmo applicare all'oggi il confronto con questi passati io sono andato come dire in modo estremamente sommario saltando i millenni facendo grandi discorsi però credo che l'utilità di queste visioni un po' rapsodiche sia alla fine molto semplice cioè quella di ricordarci che le reazioni fra culture diverse sono state tante e differenti nella storia e che quindi in qualche modo oggi il problema sia cercare di capire quello che sta succedendo non perché si possa ripetere il passato questo no ma perché il passato ci dimostra che appunto i modelli possibili sono tanti e dunque bisogna capire le specificità del modello attuale cioè in altre parole che tipo di globalizzazione culturale è oggi in corso che mi sembra una domanda estremamente interessante per superare appunto un po' la visione l'Europa e l'Occidente sta sta perdendo oppure sta vincendo boh io naturalmente io non so rispondere a questa domanda ma in ogni caso forse è una domanda sbagliata cioè bisogna cercare di capire delle dinamiche più complesse certamente ci sono dei motivi per dire che c'è una decadenza dell'Occidente possiamo anche dire forse come dice Ferguson che quel modello della modernità occidentale è finito cioè quel dominio via mare con le sue configurazioni coloniali diverse peraltro poi a seconda dei vari paesi eccetera eccetera ecco tutto quello in qualche modo è finito questo non vuol dire ovviamente un ritorno delle cumene euro afro asiatica ma vuol dire però che ci troviamo in una stagione ancora una volta nuova in cui secondo me concludo il la riflessione a fare è sul sul ruolo dello spazio e del tempo nelle relazioni interculturali non vorrei farla troppo astratta la cosa però che cosa mostra la storia della via della seta che lo spazio e il tempo non sono ostacoli sono risorse cioè che la lentezza del cammino la necessità di fare strade così lunghe e anche così impervi eccetera eccetera in realtà ha favorito un tipo di dialogo interculturale che è stato almeno in alcune situazioni non voglio esagerare nemitizzare molto fecondo l'esperienza della modernità occidentale chiamiamola così dell'occidentalizzazione del mondo da parte di europei divenuti occidentali anche perché i rapporti col mondo orientale si sono interrotti è certamente stato di tipo più traumatico non voglio dire violento non voglio dare una non voglio cadere nelle trappole della discussione sull'eurocentrismo ma certamente è stato ecco di tipo diverso allora oggi la domanda sul tipo di globalizzazione culturale perché questo ovviamente di stiamo parlando in che ruolo hanno lo spazio e il tempo oggi ecco apparentemente nessuno o meglio molto ridotti perché è una globalizzazione che viaggia sulla rete perché è una globalizzazione in cui anche i fenomeni migratori sono molto rapidi rispetto a un tempo ovviamente diciamo per cui c'è l'emergenza la nave che arriva come si fa eccetera eccetera tutto questo potrebbe costituire un problema potrebbe essere il problema nel senso cioè che rende molto più difficili e complicati quei processi di interazione di ibridazione che sono in realtà invece fondamentali per un sviluppo abbastanza equilibrato nei rapporti fra le civiltà e le culture diverse quindi io più che rimpiangere questo o quel passato mi chiedo se non possiamo trarre delle elezioni a questo o quel passato per affrontare i problemi di oggi e per riportare forse qui sì un po' di genio europeo perché nella cultura occidentale dell'Europa c'è anche una forte impronta umanistica che oggi potrebbe avere una sua utilità nel gestire un nuovo tipo di rapporti tra le civiltà in cui appunto le dimensioni dello spazio del tempo vengono compresse al massimo a scapito però dell'incontro umano della fisicità dell'incontro umano cioè oggi attraverso internet o anche senza internet ecco anzi possiamo scendere qua sotto e troviamo il ristorante che ci offre il sushi o quello che ci pare ma è chiaro che il pasto comune fra uomini e donne di culture diverse che scambiano rispettivi cibi e nell'incontro si parla e via dicendo è un luogo come dire antropologicamente fondamentale nella storia dell'umanità e che oggi non troviamo o troviamo molto meno e allora ecco qui forse l'errore che potremmo rischiare di far noi europei noi occidentali cioè quello di buttare via non tanto la nostra forza che magari non c'è più ma la nostra cultura che invece volendo c'è ancora un secolo fa Spengli diceva ormai il declino dell'occidente e questa è l'ultima battuta il declino dell'occidente è segnato ma sarà un declino molto dentro perché per almeno 400 anni avremo la forza anche se la cultura europea ormai è morta ecco io un secolo dopo direi ma forse è vero il contrario cioè è vero che oggi la forza non ce l'abbiamo più o molto meno però il rischio vero è un alto cioè quello di buttare via appunto una cultura che con tutti i suoi limiti ma che è dietro poi la proposta dello Stato nazionale cioè che è che ripeto la riassumerai in questa come dire forte radice umanistica vi ringrazio grazie per la relazione molto interessante gli spunti sono molteplici credo poi nel dibattito le raccoglieremo non le raccolgo adesso per non togliere tempo solamente volevo tra i tanti riprendere questa sottolineatura della delle connessioni via terra e non solo via mare e anche della riflessione su come la trasmissione sia differente in cui diciamo come dire la materialità della differenza di delle modalità di spostamento influisce poi sulla sostanza del dicevi tu delle relazioni interculturali degli scambi questo credo sia molto importante credo anche sia uno spunto per il tema che ieri evocava Raffaele Romanelli perché in fondo c'è un lungo dibattito nella differenza tra imperi coloniali quindi imperi diciamo oltremare e imperi continentali c'è tutta una linea che a me non convince molto che porta sostanzialmente all'omologazione delle degli imperi dicendo sono le stesse della stessa tipologia di rapporto che si instaura all'interno degli imperi in realtà credo che la differenza anche proprio su l'esercizio e la trasmissione del potere via terra e via mare non sia insignificante bene grazie molte credo che i temi sollevati siano molteplici di grande interesse io passo subito alla seconda relazione che è della collega Daniela Preda dell'Università di Genova i cui studi hanno seguito un percorso di approfondimento molto legato alla vicenda europea e soprattutto alla storia dell'integrazione europea su cui è scritto molti contributi e quindi è un è una relatrice più che adeguata al tema che appunto di cui appunto ci parlerà che è interpretare l'integrazione europea all'Europa nella globalizzazione è un tema su cui anche noi nella redazione abbiamo riflettuto più volte nel chiederci in fondo anche di fronte a quello che avviene nei processi di integrazione europea a fronte della globalizzazione e negli ultimi anni non richiede un ripensamento della storia dell'integrazione europea a te la parola grazie presidente grazie Agostino per l'invito che mi ha risvolto a partecipare a questo convegno molto molto importante a mio parere perché ci permette appunto di riflettere e permette prima di tutto a noi di riflettere sull'eurocentrismo e come andare oltre questo eurocentrismo vorrei anch'io riallacciarmi ad alcune suggestioni che sono venute dalle relazioni di ieri ma anche dalla relazione di questa mattina di Agostino e partire da alcune osservazioni fatte da alcuni storici in particolar modo partirei da quella di Bonanate Bonanate che scrive come l'Europa del Novecento sia diventata sulla scorta della lettura del Fueter il Fueter diceva che l'Italia del Cinquecento era la posta in gioco del sistema europeo degli stati e Bonanate dice come l'Italia è stata la posta in gioco del sistema europeo degli stati così l'Europa diventa la posta in gioco del sistema mondiale degli stati nel Novecento l'Europa ha dato una risposta ha saputo dare una risposta ecco forse sul Finis Europe a questo punto mi chiederei dove collocare il Finis Europa e se proprio dobbiamo farlo certamente la centralità dell'Europa non viene perduta nel 1989 a mio parere ma viene perduta molto prima con la Seconda Guerra Mondiale ma la centralità certamente non la fine dell'Europa e qui dobbiamo fare certamente una distinzione ecco l'Europa ha dato una risposta certamente l'Europa l'ha data e c'è una consapevolezza forte nella Seconda Dopo Guerra pensiamo semplicemente alla famosa battuta di Castica di Attoli quando diceva Europe must federate or perish in qualche modo anche in Audi ripete le stesse cose quando dice l'alternativa è semplicemente tra l'esistere uniti o lo scomparire quindi si pone nell'immediato Dopo Guerra sostanzialmente il problema un problema che si era già posto anche la Grecia del mondo antico tra l'esistere uniti o lo scomparire quindi tra la ricerca di un'unità però nel mantenimento attraverso il mantenimento anche della diversità ecco per quanto riguarda la storiografia allora la mia impostazione è quella di cercare di inserire il processo di integrazione europea in un processo di più lunga durata rispetto a quello che normalmente viene considerato certamente dando per scontato che l'integrazione europea comincia nel 1950 con la famosa dichiarazione Schumann e quindi i consigli di Jean Monnet dietro Schumann ma non possiamo neanche dire che questo è il momento a un certo punto senza nessuna semplicemente sulla scorta diciamo così di condizionamenti di carattere occasionale si decide non semplicemente di mettere insieme il carbone e l'acciaio ma di creare le premesse per una unificazione la creazione di una statualità di carattere sovranazionale questo è molto chiaro nella dichiarazione Schumann più vicino questo è molto chiaro nella dichiarazione Schumann laddove nella dichiarazione si legge sostanzialmente che attraverso la unificazione del carbone la messa in comune del carbone e l'acciaio si devono raggiungere e verranno fondate le premier sassise della federazione europea quindi le prime istituzioni di una federazione europea quindi quello che si fa nel 1950 è sicuramente molto diverso dal risolvere semplicemente il problema dei rapporti franco-tedeschi questo è un punto di vista il secondo punto di vista il mio parere fondamentale e qui mi riallaccio a quello che diceva Agostino poco fa è il fatto anche di cercare di leggere l'integrazione europea e soprattutto il processo di integrazione che nasce nel secondo dopoguerra a latere e in analogia con una serie di processi che coinvolgono altri spazi a livello mondiale cioè non siamo gli unici da questo punto di vista credo che il titolo di questo convegno vada esattamente nella direzione corretta mi soffermo qualche minuto sulla storiografia per sottolineare come prima di tutto come la caduta del muro di Berlino questo sì questa volta sì sia da considerarsi in qualche modo se volete liberatoria per gli studi sul processo di integrazione europea studi che hanno conosciuto negli ultimi anni un notevole sviluppo e gli studi questi studi cominciano in quel momento ad emanciparsi da un'interpretazione che era l'interpretazione classica sostanzialmente tradizionale degli anni precedenti che faceva coincidere l'europeismo con l'atlantismo e quindi riconduceva nell'ambito bipolare sostanzialmente il processo di integrazione europea ciò non permetteva di vederne le specificità sino agli anni 80 tra parentesi gli storici hanno continuato a confinare sul piano nazionale la loro prospettiva analitica con un atteggiamento che è scaturito dalla convinzione che il processo di unificazione europea fosse in qualche modo un problema concernente esclusivamente gli stati e la loro politica estera e quasi in qualche modo che l'Europa fosse qualcosa di esterno di altro di diverso e che non coinvolgesse invece la vita stessa dei cittadini europei e la società nel suo insieme ecco l'intergazione europea comincia a diventare oggetto di ricerca in un primo tempo diventa oggetto di ricerca semplicemente dei militanti di coloro che hanno partecipato al processo pensiamo non so a Ducci pensiamo ad Albonetti Ferrari a Gradi a Taviani ma pensiamo anche alle alle ricostruzioni e alla pubblicazione degli articoli e dei discorsi che ne so di De Gasperi di Sforza eccetera eccetera e soltanto alla fine degli anni 60 inizio anni 70 abbiamo le prime grandi ricostruzioni storiche in particolar modo sono i tedeschi a muoversi per primi con la grande ed incommiabile opera di Walter Lipkens Walter Lipkens che riuscirà a racchiudere all'interno di quattro monumentali volumi sostanzialmente una grande una grande raccolta di documenti che erano assolutamente scarsamente accessibili e scarsamente proprio rintracciabili e quindi da questo momento comincia seppur appunto con tutti i limiti che vi dicevo comincia a radicarsi in Europa una storiografia che studia l'integrazione europea come processo assistante rispetto appunto alla storia dell'atlantismo e della guerra fredda sulla scorta di Lipkens possiamo pensare a Michel Dumoulin in Belgio possiamo pensare a Pierre Gerbet Poit de Vin in Francia a Trausch in Lussemburgo in Italia si muovono per primi devo dire molti storici contemporaneisti tra cui Guderzo Pavia Veneruso a Genova Ariane Landuit a Siena ma anche sicuramente Sergio Pistone a Torino e credo che sia anche interessante sottolineare come queste considerazioni dal punto di vista storiografico valgano anche dal punto di vista archivistico perché anche le autorità europee non si preoccupano per lungo tempo di conservare di ordinare di rendere accessibili i loro documenti lasciando sostanzialmente che la ricerca sull'Europa in costruzione rimanga confinata nell'ambito dei rapporti diplomatici ricostruibili attraverso i documenti degli stati membri solo nel 1984 viene presa la decisione di radunare a Villa il Poggiolo Istituto Universitario Europeo di Firenze i documenti che sono quelli provenienti da Lussemburgo da Bruxelles a partire dell'85 viene creato l'archivio nel 1987 l'archivio riceve la prima donazione di un archivio privato che è quello di Altiero Spinelli e quindi in qualche modo cambia la sua vocazione non è più semplicemente archivio istituzionale ma diventa anche archivio di personalità che hanno protagonisti più o meno importanti del processo di integrazione europea movimenti attori della società civile una vocazione che però verrà riconosciuta e questo credo che sia significativo soltanto nel 2004 sotto la commissione Prodi quindi diciamo un processo anche la stessa Unione Europea fatica in qualche modo a riconoscere la specificità di questo processo superato questo sterile appiattimento di europeismo e atlantismo e la fuorviante riconduzione del processo di unificazione europea nell'ambito del bipolarismo risulta ora possibile io credo da un lato leggere in una prospettiva di lunga durata la storia dell'Europa nell'epoca della globalizzazione e indagare le forze profonde che sottendono al processo e questo sarà il primo punto della relazione li svolgerò brevemente dall'altro cogliere gli elementi di rottura portati dalla seconda guerra mondiale in ambito europeo e che determinano il passaggio dall'unificazione europea dall'utopia alla fase di realizzazione concreta e terzo punto individuare e motivare nel periodo della guerra fredda la compresenza nella cultura politica e nell'azione degli stati europei di atteggiamenti se volete ambivalenti ambigui talora contradditori se non addirittura incoerenti che rispecchiano l'azione indecisa degli stati sovrani esitanti tra la consapevolezza della perdita della loro indipendenza politica e della convergenza tra interessi nazionali e processo di unificazione europea da un lato e il tentativo di recuperare la potenza di un tempo dall'altro quindi risulta possibile interpretare l'avanzare del processo di integrazione continentale accanto al persistere di sussulti nazionalistici e neocolonialistici Algeria Suezio sono stati ricordati ieri e leggere l'integrazione europea come processo autonomo di affermazione di un nuovo soggetto internazionale nell'epoca dell'avanzata globalizzazione allora primo punto fattori di lunga durata fattori di lunga durata che hanno posto le basi per l'avvio del processo di unificazione europea possono essere sinteticamente ricondotti nella crisi del sistema europeo degli stati nazionali che viene generata sul versante economico dallo sviluppo delle forze produttive tra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento rendendo sempre più anacronistica la dimensione nazionale dei mercati e dal punto di vista politico sul versante politico del passaggio dal sistema europeo al sistema mondiale degli stati certamente la rivoluzione industriale è stata fondamentale nella come si diceva come diceva Testè Agostino su un altro piano nella rompere l'isolamento delle comunità locali e nel creare sostanze degli spazi di interdipendenza economica e sociale e politica sicuramente nell'intero continente ma non solo nel continente la prima risposta degli stati europei alle sfide globalizzanti della rivoluzione industriale e all'incipiente declino dello stato nazionale a fine ottocento la conosciamo fu l'imperialismo cioè la spartizione del mondo tra le grandi potenze la politica di guglielmo secondo poi la ricerca dello spazio vitale eccetera eccetera una gara imperialistica che sfocia nella prima guerra mondiale combattuta per la ridefinizione degli equilibri e la ridistribuzione del potere tra gli stati europei a livello mondiale in realtà le conseguenze di questa guerra si sarebbero rivelate ben diverse da quelle che gli stati si prefiggevano la prima guerra mette fine di fatto anche se noi normalmente diciamo che la centralità dell'Europa viene meno nel 1945 ma già con la prima guerra mondiale sostanzialmente questa centralità è in crisi fa emergere nuovi attori internazionali destinati ad assumere ruoli di leadership e radica soprattutto nei popoli coloniali la presa di coscienza del loro diritto all'autogoverno una delle letture più interessanti ancorché poco conosciute di questo periodo è la prima guerra mondiale ma che si estende anche alla seconda guerra mondiale quella sicuramente di Luigi Inaudi il quale mette in evidenza come le radici di questo conflitto risiedessero nella divisione dell'Europa e nel fatto che l'Europa non avesse saputo darsi un assetto politico coerente con il grado di unità economica raggiunto sulla spinta della rivoluzione industriale l'unità europea rappresentava su giudizio una necessità storica e la guerra era scoppiata perché l'Europa era alla disperata ricerca della propria unità un giudizio molto alternativo molto forte se volete dirà poi dopo la seconda guerra mondiale che le due guerre mondiali sono state guerre civili tra gli europei e sottolinea il permanere della necessità dell'unione di un'unione politica e dirà l'unione politica può essere raggiunta in due modi o con la spada di Satana o con la spada di Dio la spada di Satana è il tentativo egemonico Hitler la spada di Dio è invece il tentativo di creare attraverso il diritto un'unità di carattere appunto sovranazionale e questo è quello che gli europei hanno tentato nel secondo dopoguerra secondo dopoguerra e arrivo al secondo punto crollo del sistema europeo degli stati venir meno della centralità europea nel mondo la nascita del bipolarismo aprono una vera e propria frattura nella storia dell'Europa decretando il passaggio dall'unificazione europea dall'utopia alla realtà pensiamo che anche nel periodo tra le due guerre ci erano state proposte di unificazione europea pensiamo al piano Briand ma che non avevano avuto la possibilità di essere realizzate nonostante vi sia ampio consenso su questo punto non è raro tuttavia che il racconto delle vicende storiche tenda piuttosto a sottolineare gli elementi di continuità con il passato e a ignorare la novità rivoluzionaria per l'Europa costituita dall'integrazione europea e dalla creazione di uno stato nuovo che si affianca agli stati nazionali con i suoi spazi autonomi anche nei rapporti internazionali io credo che i recenti contributi per esempio di Mario Telò di Giuliana Laschi di Umberto Morelli di Elena Calandri abbiano dimostrato come ci sia stato questo ruolo internazionale nonostante la debolezza della PESC ma anche prima della esistenza di una politica di sicurezza comune ci sia stato un ruolo internazionale giocato dalla comunità Unione Europea un ruolo di soft power certamente ma giocato attraverso la politica dell'allargamento il circolo virtuoso creato da questo nel cercare di rendere più democratici gli stati pensiamo alla Spagna al Portogallo alla Grecia agli stessi paesi dell'est attraverso la politica commerciale con i paesi soprattutto con i paesi terzi e quindi anche l'avvio di una politica di cooperazione allo sviluppo ecco le resistenze alla storografia non mi soffermerò su questo punto per questione di tempo però resistenza alla storografia un cambiamento così importante dal punto di vista del punto di vista sono comprensibili dal momento che sicuramente la tradizione dello Stato assoluto è una tradizione di carattere secolare ma sono anche comprensibili se noi pensiamo alla costruzione certosina del mito nazionale che è stata attuata nel XIX secolo e di cui la storiografia è stata sicuramente in gran parte anche protagonista tuttavia mi sembra molto funzionale al nostro discorso l'affermazione di Mark Bloch quando Mark Bloch mette in evidenza come la storia per sua natura sia continuità ma nel contempo anche perpetuo mutamento e quindi proprio dall'antitesi tra questi due attributi derivano i grandi problemi della ricerca storica questo forse ci permette di capire come ci sia stata una diversa percezione degli storici degli avvenimenti post-1945 e che abbia fatto sì che alcuni attestassero le loro ricerche sul concetto un po' camaleontico di ricostruzione degli stati nazionali e altri invece si muovessero nel nuovo contesto aperto dal passaggio del sistema europeo e sistema mondiale degli stati e in quest'ottica si siano sforzati di leggere la parabola nuova degli stati nazionali quindi ho l'impressione che per leggere interpretare veramente l'Europa post-1945 occorra muoversi su una pluralità di piani diversi dopo la seconda guerra mondiale l'Europa è divisa in sfere di influenza lunga la linea della cortina di ferro indicata da Churchill già nel suo discorso del 1946 ma tuttavia questa stagnante realtà del vecchio continente viene investita il 5 giugno del 1947 dall'iniziativa presentata alla Harvard University dal segretario di Stato americano generale Marshall con un piano che prenderà il suo nome e che mette all'ordine del giorno il tema dell'unità europea promette aiuti agli europei subordinandoli all'elaborazione di un programma comune di ricostruzione economica e creando in tal modo le premesse di un'azione politica dell'Europa relativamente indipendente dai due blocchi questo non significa ovviamente in qualche modo non dare sufficiente importanza all'influenza che la guerra fredda ha avuto sul processo di integrazione europea ma significa cercare di mettere in vendenza le spinte verso una sua autonomia all'interno di questo nuovo contesto internazionale di carattere globale e i padri fondatori dell'Europa lo percepiscono immediatamente e sottolineo per esempio ricordo De Gasper in 1950 De Gasper scrive che l'unica politica di autonomia dagli americani è l'unità europea 1952 ribadirà questo coroncetto a chi gli chiedeva di citare un solo caso in cui la politica italiana fosse stata autonoma diversa da quella degli americani De Gasper indicherà senza esitazioni la politica europea e ancora potremmo citare il ministro degli esteri Sforza in un suo discorso a Milano nel 1948 in occasione delle elezioni politiche in cui Sforza a sua volta si sottrae da questa lettura bipolare e scrive che sostanzialmente l'integrazione europea proprio all'opposto di un disegno egemonico sprona gli italiani a riconoscere che in un mondo sempre più piccolo sempre più uno non vi sono più problemi esclusivamente nazionali ma aspetti italiani di problemi europei e mondiali si potrebbe citare peraltro anche Altiero Spinelli e tanti altri ma vorrei soffermarmi sull'azione di Monet non solo sulle parole di Monet ma sull'azione di Monet su quanto l'azione di Monet abbia interpretato questa necessità di autonomia questa richiesta di autonomia quando nel memorandum nel memorandum del 3 maggio 1950 quello che prefigura la cieca Monet propone cito un'azione profonda reale rapida e drammatica in grado di cambiare i termini stessi del problema e di sostituire nei popoli alla rassegnazione dell'inevitabile tragedia la speranza in un futuro migliore che cosa fa Monet propone di fatto di minare alla base la logica della guerra fredda facendo uscire l'Europa dalle secche dello scontro prettamente bipolare il piano Schumann affronta le problematiche economiche politiche del secondo topoguerra secondo una logica diversa da quella del passato non propone semplicemente un abbassamento bilaterale multilaterale di tariffe una progressiva eliminazione di contingenti all'importazione che avrebbero sicuramente lasciate intatte le divisioni politiche tra gli stati non si limita a imporre la Germania ad eliminare cartelli secondo quelle logiche tanto discriminatorie quanto inefficaci che già erano fallite nel periodo tra le due guerre propone invece un'azione sovranazionale tra stati un forte controllo politico sull'economia propone un metodo e delle istituzioni in grado di garantire superamento definitivo delle barriere nazionali e quindi anche la creazione definitiva di un libero mercato propone in definitiva l'unificazione europea sulla base di un nuovo modello di governance determinando così una svolta storica nel processo di integrazione europea dalla logica bipolare la necessità quindi di integrare la Germania nella nuova Europa per evitare che fosse attratta dalle sirene sovietiche si passa ad una logica multipolare la creazione dell'Europa Unita come nuovo soggetto di carattere internazionale a partire dal lancio del piano Marshall in virtù del favorevole atteggiamento statunitense poi l'europeismo ha saputo ricavarsi spazi di autonomia progressivamente più ampi qui vado molto velocemente per tappe metà degli anni 50 abbiamo questi tanti aneliti di carattere multipolare la nuova Europa quella che tra il 52 e il 53 si dota cerca di dotarsi di un statuto di comunità fallendo di uno statuto di comunità politica europea poi nel 1957 firma i trattati di Roma questa nuova Europa si colloca a latere di altre situazioni internazionali che non dico che siano analoghe ma sicuramente vanno nella direzione multipolare pensiamo alla conferenza di Bandung del 1955 pensiamo alla quella di Belgrado del 61 con la nascita del movimento di paesi non allineati pensiamo anche alla alla Cina quanto la Cina stia cominciando un progressivo processo di sganciamento dell'Unione Sovietica e nella stesso tempo anche nell'Europa orientale si affaccino i primi fermenti autonomistici con i fatti di Polonia e di Ungheria la decolonizzazione sicuramente rappresenta un potente fattore di unificazione europea svanisce da un lato il sogno dello Stato nazionale sovrano che poggia le sue rivendicazioni mondiali su un impero ma resta ferma la necessità di una dislocazione continentale dei problemi della crescita economica e della sicurezza quindi si rafforza in quel momento la percezione tale finalità possa essere perseguita solo attraverso l'integrazione europea e la limitazione delle sovranità statali questo è chiaro con la crisi di Suez nel momento in cui la Francia diciamo le itane o colonialiste francesi vengono bloccate vengono ridimensionate e proprio la crisi di Suez consentirà di superare gli ostacoli frapposti dalla Francia alla firma dei trattati di Roma e a far rientrare la Francia nell'alveo della politica europea era da più di un anno che la Francia poneva ostacoli in quel momento alla firma dei trattati di Roma e la soluzione verrà risolta in un colloquio tra Monet e Denauer questi profondi cambiamenti del contesto storico internazionale provocano ripercussioni importanti anche sulla strategia dell'integrazione europea se infatti il processo di unificazione non si interrompe presentando evidente linee di continuità con il passato esso muta natura abbandonando gli aspetti più federalistici della prospettiva gradualista monetiana e di quella costituzionalista che su di essa si era innestata in occasione della comunità politica europea e privilegiando gli aspetti dell'integrazione funzionalistica si opta cioè per un'integrazione di carattere orizzontale con la messa in comune di competenze molto allargate mercato e con la creazione di istituzioni sovranazionali dei poteri molto limitati interessante vedere anche il paragone se nella dichiarazione Schumann si leggeva dobbiamo creare le promesse assist della federazione europea nella trattato articolo 2 trattato della comunità economica europea si dice semplicemente la comunità ha il compito di promuovere più strette relazioni tra gli stati che ad essa partecipano quindi l'oiato è veramente grande di questo periodo e anche lo cito semplicemente quello che viene chiamato la rottura dell'identità di deterrenza tra Europa e Stati Uniti che troverà poi la sua massima espressione nella soluzione esclusivamente bipolare tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 nelle crisi di Berlino e di Cuba nella firma poi del trattato di non proliferazione degli armamenti nucleari del 1968 spronando ancora una volta l'Europa alla ricerca di soluzioni alternative e indipendenti tra queste cito semplicemente l'alleanza tra la Francia e la Germania nel 1953 ma anche le politiche apparentemente semplicemente nazionalistiche di De Gaulle e di Willy Brandt De Gaulle certamente persegue una politica francese di autonomia simboleggiata dal distacco della Nato dalle richieste di conversione di dollari in oro eccetera eccetera ma questa strategia prevede anche il rafforzamento di un'Unione Europea guida francese certamente da un lato abbiamo i piani Fouché di comunità politica europea dall'altro lato forte spinta per la creazione di una unità monetaria europea comune di cui non si parla praticamente mai io ricordo semplicemente che Valeriy Scardestain quando era ministro delle finanze nel 1961 già nel 1961 studia una currency reserve unit che deve essere appunto europea proprio con l'obiettivo di svincolare la creazione di liquidità internazionale dall'entrata materiale dell'oro nel sistema a sua volta Brandt sicuramente con lo Spolutic quindi la normalizzazione dei rapporti tra la Germania e l'URSS e poi con gli altri paesi del patto di Varsavia apre evidentemente una prospettiva di superamento dell'Europa della divisione europea in blocchi contrapposti chiusa questa fase espansiva di stabilità monetaria che aveva fatto da sfondo al periodo transitorio del mercato comune l'Europa sarà poi chiamata ad affrontare da prima l'instabilità del sistema di Bretton Woods poi il disordine monetario internazionale avviato nel 71 con la spospensione della convertibilità del dollaro in oro e infine successivamente la progressiva inarrestabile svalutazione del dollaro anche in questo caso gli europei rispondono ancora con immediatezza dimostrando volontà di autonomia si pensi al rilancio dell'integrazione europea alla conferenza dell'AIA dicembre 1969 successivo piano Verner approvato nel marzo 1971 anche questo in genere dimenticato che prevedeva la creazione entro il 1980 di un'unione economica e monetaria a partire dal 72 progetto dell'unione economica e monetaria visto da Pompidou come uno strumento per definire l'identità europea e non a caso il vertice di Parigi dove si prende coscienza della precarietà degli misonian agreements è prevalentemente incentrato proprio sulle questioni monetarie e arrivo alla conclusione nell'epoca della guerra fredda l'integrazione europea si è realizzata in modo imperfetto le ragioni dell'unione si sono scontrate costantemente con quelle della conservazione della sovranità nazionale senza che il contrasto si sia risolto nella prevalenza di una delle due spinte sull'altra l'Europa ha potuto evitare la scelta tra confederazione e federazione seguendo una sorta di terza via e riuscendo a risolvere le numerose crisi attraversate pur in assenza di un solido quadro di riferimento statuale perché la leadership americana ha garantito al continente gli strumenti essenziali della sovranità cioè la sicurezza e una difesa comune questo attraverso la Nato e l'ombrello nucleare dall'altra parte la stabilità monetaria almeno fino al 71 quindi tramite il dollaro e il gold exchange standard con la fine del bipolarismo l'Europa è chiamata a fare quelle scelte e assumersi quelle responsabilità che nel passato aveva delegato il nuovo contesto internazionale propone l'annoso contrasto tra equilibrio ed egemonia con il ritorno di attori e strategie del passato i nazionalismi accompagnati dal nuovo spettro di un'egemonia della Germania allargata sul continente accanto anche a nuovi scenari micronazionalismi le spinte globali ciò comporta a livello europeo la presa di coscienza della necessità di assumere un ruolo internazionale attraverso il rafforzamento dei due pilastri della sovranità moneta e difesa e ancora una volta l'Europa percepisce perfettamente il problema e cerca di dare una risposta una risposta che noi troviamo in quello che può essere chiamato definito il trentennio costituzionale dell'Europa a partire dall'approvazione da parte del Parlamento europeo nel 1984 del progetto di Unione Europea quello che viene definito di Altiero Spinelli in realtà e del Parlamento europeo poi si passa all'atto unico europeo poi nuovo rilancio si passa il trattato di Maastricht poi il trattato di Amsterdam nel 2000 si arriva dicembre 2000 la dichiarazione in inizio il trattato di inizio poi ancora 2001 dichiarazione di Laken che mette in moto un meccanismo un nuovo meccanismo costituzionale un nuovo progetto prospettiva di riforma delle istituzioni con la creazione di quella che è stata quella importante esperienza della convenzione europea guidata da Giscard d'Esta approvazione tentativo di approvazione di ratifica del trattato che viene che viene invece conoscere in successo nel 2005 con la la mancata ratifica da parte della Francia dei Paesi Bassi e infine l'ultimo rilancio dopo la pausa di riflessione da parte di Angela Merkel nel 2007 si arriva nel 2008 alla firma del trattato di Lisbona quindi l'Europa ha cercato ancora una volta di dare una risposta si tratta ora di vedere se alle diciamo le spinte verso l'unificazione se le spinte verso l'unificazione sapranno reggere all'urto appunto di questi nazionalismi micronazionalismi che sono riemersi grazie grazie a Daniela Preda la la vicenda dell'integrazione europea è una una componente non secondaria di questa storia della questione che cerchiamo di affrontare la sua relazione ci ha dato non pochi spunti ieri Agostino Giovagnoli in sua assenza ha ringraziato la professoressa Elisa Giunipero che credo dirige l'istituto Confuci Università Cattolica del Sacro Cuore che partecipa alla realizzazione del nostro seminario siccome oggi è presente allora volevo anche da parte del del mestiere storico di tutti noi esprimere questa gratitudine e continuiamo a ragionare sull'integrazione europea in questo caso l'integrazione europea e i rapporti nord-sud con Sara Lorenzini dell'Università di Trento che nel suo percorso di ricerca ha affrontato il tema dei rapporti nord-sud nel quadro della guerra fredda una strana guerra fredda se non sbaglio era il titolo di un di un suo libro e si è interessata ai temi della cooperazione e quindi credo che possa dare un contributo proprio nel nel cogliere l'integrazione europea in un contesto non solamente endoeuropeo ma che si misura con questa questo asse nord-sud non secondario nell'età della globalizzazione grazie prego grazie grazie a tutti grazie molte della presentazione grazie molte dell'invito qui a parlare di un tema con un titolo molto preciso e io che sono una persona molto ligia nel rispettare le consegne anche nei tempi parlerò appunto di integrazione europea e di rapporti nord-sud e questo significa anche che parlando di integrazione europea parlerò molto poco di lungo periodo perché l'integrazione europea è l'abbiamo sentito da Daniela preda ora abbastanza è cronologicamente molto determinata anche dal punto di vista delimitata anche dal punto di vista storiografico e cronologico parlerò di integrazione europea e quindi non di occidente non necessariamente di occidente oltre che non di lungo periodo vorrei anche io collegarmi con il discorso più ampio del convegno e con le osservazioni fatte fino a ora dai colleghi tutte molto molto stimolanti per riflettere sul concetto su cui noi in fondo con i nostri specifici temi siamo chiamati a intervenire cioè oltre l'eurocentrismo e anch'io devo dire che condivido pienamente come dire i dubbi e le perplessità di Raffaele Romanelli perché insomma per me pensare a una cosa oltre l'eurocentrismo significa provare a fare una rivoluzione copernicana no in fondo e in particolare nel caso del mio tema provare a pensare che cosa gli altri pensano di noi più che cosa l'Europa pensa dei rapporti nord-sud però io metto le mani avanti e vi dico che qualche cosina di questa cosa la dirò di che cosa gli altri pensavano di noi negli anni trattati ora nelle miei nella mia mezz'ora di presentazione però soprattutto guarderò a un altro genere di rivoluzione copernicana cioè a quello al ribattamento delle narrative classiche che un po' abbiamo sentito ora da Daniela Preda relative all'Europa alla nascita dell'Europa come progetto integrato come progetto di Unione Europea e allora immagino che ho immaginato ho contattato da Giorgio Del Zanna ho immaginato subito che insomma quello che mi veniva chiesto con questo titolo era di parlare del capitolo del mio libro che è uscito da poco che si intitola appunto Una strana guerra fredda che riguarda l'Europa e il ruolo dell'Europa della comunità europea e dell'Unione Europea nei rapporti nord-sud e nell'offrire un modello regionale un modello proprio di di cooperazione allo sviluppo e il libro da cui è tratto è tratto il capitolo tratta anche molta parte di quello che dirò oggi è una storia dell'aiuto allo sviluppo che io leggo come strumento privilegiato nella politica internazionale del novecento in particolare della seconda metà del novecento e in particolare nell'età della globalizzazione lo strumento privilegiato perché io ritengo che molta parte della politica internazionale molta parte della politica estera grande parte della politica estera e molto più di quanto noi non siamo spesso disposti a mettere passi attraverso quello che anche qui è stato definito come soft power che insomma forse non è neanche sempre così tanto soft dell'aiuto economico io parlerò di vaccinerò insomma dividerò il mio intervento in in tre come quasi tutti hanno fatto poi queste presentazioni parlando prima della centralità della dimensione nord-sud dell'aiuto allo sviluppo nella politica europea introducendolo all'oggi parlando dell'oggi perché vorrei raccogliere l'idea che c'è dietro questo convegno che è quella di come dire attualizzare molto il la riflessione la riflessione storica e io credo che questo questo tema e questo elemento della dimensione nord-sud sia centrale nella politica in particolare nella politica europea di oggi e dirò perché è la secondo la secondo il secondo punto è che toccherò la centralità del rapporto con il sud del mondo nella storia dell'integrazione europea nella storia ma non nella storiografia dell'integrazione europea l'avete sentito no? della storiografia aggiungerò qualche osservazione mia su su quanto e perché come l'ottica possa o debba cambiare da questo punto di vista e poi parlerò delle politiche di aiuto e della versione del modello europeo della versione dell'Europa comunitaria del modello europeo di politica globale che emerge nell'ambito dei rapporti nord-sud nella storia di come la comunità europea prima dell'Unione europea si propone al sud del mondo allora partendo dal punto 1 la centralità della dimensione nord-sud nella politica europea se noi guardiamo al budget che la commissione sta per proporre per il 2019 beh all'interno di questo budget è suppressione delle questioni politiche importanti e urgenti della che l'Europa si trova ad affrontare in particolare delle migrazioni appunto all'interno del budget i fondi che sono destinati a a misure sulle migrazioni e sulle protezioni dei confini che poi in fondo sono un po' la stessa cosa no sono aumentati in maniera colossale rappresentano un investimento sono aumentati del 107% e rappresentano un investimento veramente molto significativo nel budget europeo la centralità la centralità del problema e del ruolo dell'Europa e delle sue relazioni con il sud del mondo è una cosa che è anche presente non solo nel budget ma nei documenti strategici di lungo periodo ad esempio se noi leggiamo la EU global strategy che è uscita che dovrebbe rappresentare il futuro della politica estera europea beh lì leggiamo che la chiave per il rilancio della politica estera europea è proprio l'intervento dell'Europa nel sud del mondo è proprio la dimensione un impegno molto forte dell'Europa nella dimensione nord-sud se noi guardiamo l'autorappresentazione come viene dai siti della commissione europea l'autorappresentazione dell'Europa e andiamo a guardare le pagine che presentano l'impegno europeo e che descrivono insomma in fondo quella che è un po' la missione dell'Europa beh vediamo che l'aiuto allo sviluppo in particolare è definito a cornerstone a cornerstone of EU relations with the outside world quindi una pietra miliare è un punto importante e centrale nella nella definizione del ruolo europeo è chiaro perché viene detto esplicitamente come obiettivo dell'Unione Europea l'obiettivo dell'Unione Europea è quello di presentarsi di offrirsi e di e di sottolineare il ruolo di world's leading donor e in un'operazione anche un po' si sa che con le statistiche si può sempre giocare in maniera in maniera furba dal punto di vista comunicativo l'Europa si presenta l'Europa insieme dell'Unione e degli stati membri come il donatore come il gruppo di stati a livello globale che offre più aiuti aiuti governativi ODA Official Development Assistance secondo la definizione dell'Ocse e utilizzando i dati dell'Ocse l'Europa appunto si presenta come il gruppo che fornisce oltre il 50% dell'aiuto a livello mondiale si tratta secondo le statistiche e secondo i dati dell'Ocse del 2017 di quasi 76 miliardi di euro questo dato come vi dicevo è un po' un camuffamento non si tratta solo di fondi dell'Unione Europea si tratta mettere insieme anche tutte le politiche bilaterali dei paesi europei però ecco l'elemento che volevo sottolineare con questa introduzione sull'oggi è che la dimensione la proiezione europea nei confronti del sud del mondo è considerata nella politica attuale della Commissione dell'Unione Europea come una dimensione molto importante venendo alla storia questa questa dimensione è altrettanto importante nella rappresentazione della storia dell'integrazione europea l'abbiamo sentito ora da Daniela Preda insomma la risposta è no non è così altrettanto importante questa dimensione è una dimensione che è stata dal punto di vista storiografico e lo ha già accennato la collega è stata riscoperta da poco in fondo cioè prima fino a poco tempo fa c'erano solo due lavori Enzo Grilli e Thomas Moser sulla dimensione sugli aiuti europei sulla cooperazione europea con il sud del mondo e sull'aiuto allo sviluppo ora la produzione storiografica si è un po' ampliata in tempi più recenti oltre oltre agli autori italiani che ha citato Daniela Preda mi sento però di sottolineare soprattutto il contributo del libro dei lavori di Veronique Dimier che forse è la storica che di più ha lavorato su questo belga e della storiografia dei paesi nordici rappresentata in particolare da Pio Hansen e Stefan Johnson che hanno scritto un volume molto importante dal titolo Euroafrica di cui insomma da cui a cui rispondono anche alcune delle cose che dirò io ora beh il punto che io voglio mettere e porre il punto forte che voglio porre alla vostra attenzione in questa relazione è che in realtà però anche se questo non è ancora avvenuto ci sarebbero tutti gli strumenti per ribaltare le narrative classiche della storia dell'integrazione europea per ribaltare questa idea dei padri dell'Europa che in fondo è una cosa che è ancora molto condizionale la nostra lettura del processo di integrazione europea uso processo un po' fra virgolette ma insomma non entro sulla contestazione dell'idea di processo ma beh la storiografia e la storia dell'Europa unita è troppo spesso una storia che viene letta in fondo nei margini delle rivalità intraeuropee e quindi la storia dei padri dell'Europa è ancora la storia dei tre uomini di confine Robert Schumann Alcide De Gasperi Conrad Adenauer e delle loro affinità la lingua perché potevano parlare in tedesco fra loro le radici cattoliche l'idea del superamento della guerra civile europea ne abbiamo sentito parlare anche ora perché infatti questa è la narrativa prevalente e guardate badate bene certo questo elemento c'è in particolare la centralità del mantenimento della pace nell'ispirazione originaria dell'Europa c'è così come anche gli interessi economici che sono quelli toccati dall'altra parte della storiografia quella che per carità di patria Daniela Preda ha lasciato un po' da parte tipo Millward della storia ecco anche quella la storiografia che sottolinea l'importanza della creazione del più ampio mercato certo che c'è l'elemento ampio mercato come mercato del lavoro prima che mercato dei beni quindi perché questo era in realtà l'interesse primario poi come si legge nelle discussioni negli inizi delle prime trattative relative alla nascita dell'Unione Europea le comunità europee e però in queste nelle tante ricostruzioni di cui abbiamo sentito parlare di come è nata l'Europa tendiamo a rimuovere secondo me i pezzi di identità che non ci piacciono e dimenticare che gli stati europei che si sono messi insieme all'inizio degli anni 50 e che hanno cominciato a parlare di progetti di integrazione europea alla fine degli anni 40 e che non non erano non erano la piccola Europa erano degli imperi e che erano degli imperi coloniali che non pensavano non immaginavano non vedevano nemmeno la prospettiva alla fine degli anni 40 della fine imminente dell'impero non immaginavano che l'impero sarebbe finito così presto l'Europa unita è nata con l'impero coloniale nel DNA questa è una cosa che noi lasciamo da parte ma che invece determina tanta parte poi del forse anche delle potenzialità diciamo che l'Europa tira fuori negli anni o riscopre durante gli anni della crisi negli anni 70 questa dimensione dell'impero coloniale è sempre stata molto forte ora senza andare a ripescare ma lo potremmo fare i progetti di Euroafrica tanto cari al pensiero europeista degli origini Pano Europa Kudenovo Kalergi il rapporto con il sud del mondo anche lasciando perdere questi progetti degli anni 20 il rapporto con il sud del mondo è cruciale fin dalla nascita ufficiale delle comunità europee e potremmo cominciare da Santa Margherita Ligure il ruolo che l'Africa rivestì nelle trattative si vede dal numero dei documenti in archivio nelle trattative fra Italia e Francia quando c'era da parlare di unione doganale ma senza volere proprio cominciare dalle origini e origini andiamo pure ai negoziati sui trattati di Roma marzo 1957 che nascono a condizione che siano inserite delle previsioni per mantenere degli imperi coloniali e che infatti sono inserite nella parte quarta dei trattati di Roma e questa è una priorità di tutti i paesi coloniali in particolare di Francia e Belgio più che dell'Olanda che sono molto espliciti su questo il ministero dell'Oltremare che ancora c'era e che ci sarebbe stato ancora per un bel po' nella vigilia durante i negoziati dei trattati Roma a metà degli anni 50 Gaston Deferre l'autore delle riforme dell'Unione Francaise il ministro francese dell'Oltremare dichiara durante i negoziati che la Francia non abbandonerà mai la sua vocazione africana per una vocazione europea Paul Harris Park proprio alla vigilia nell'imminenza della firma dei trattati di Roma siamo nel 1957 dice ma non sarebbe forse un grande successo se l'Europa realizzasse così finalmente il sogno di Euroafrica con l'integrazione europea l'olandese ho citato anche l'Oland citiamo tutti i grandi imperi l'Italia ormai era un grande imperio non era più e su questo dopo il 1947 non parla più ma l'olandese Joseph Lums descrive i trattati di Roma come la prosecuzione della missione civilizzatrice europea quindi la prosecuzione del colonialismo europeo e nessuno e tutti i leader sono d'accordo i leader europei anche Adenauer anche De Gasperi sono d'accordo su questa su questa importanza della dimensione coloniale e questa è una cosa che noi secondo me dobbiamo tenere a mente un pochino di più pensando nel rivalutando parlando di eurocentrismo e necessità di capire che cosa significa l'eurocentrismo perché sì anche rimanendo eurocentrici cioè parlando di Europa noi dovremmo però parlare di un'Europa che è fatta di imperi e di culture imperiali molto più di quanto non facciamo tradizionalmente non facciamo e non abbiamo e non abbiamo fatto cosa succede quando i trattati di Roma nascono e nascono con questa dimensione imperiale molto forte succede che i trattati di Roma anzitutto ripetono e trasferiscono in una dimensione europea l'idea costituzionale e istituzionale dell'Unione Française e del FIDES cioè dell'associazione delle strutture che sono pensate per fornire aiuti allo sviluppo ai paesi associati lo stesso concetto di associazione è un concetto ora abbiamo parlato tanto di queste cose costituzionalmente e dal punto di vista giuridico non hanno tanto sviluppo ma sì ce l'hanno lo sviluppo perché il concetto di associazione è un'istituzione è un istituto giuridico l'idea di associazione prettamente francese che viene estesa e adottata all'interno delle istituzioni europee allora la CEI quando nasce eredita questa struttura amministrativa questa visione dello stato coloniale che è la visione francese e che esegue e imposta i canali principali delle relazioni nord-sud secondo lo schema appunto della tradizione giuridica francese e che i canali principali attraverso cui la comunità economica europea interagisce con i territori e i paesi associati all'interno dello schema dei trattati d'europa sono due cioè da un lato il commercio preferenziale dall'altro l'aiuto allo sviluppo badate bene questi due canali questi due elementi il commercio e l'aiuto allo sviluppo sono due elementi che si ritrovano nel modello imperiale e che poi si ritrovano anche nel più ampio quadro della riflessione all'interno delle organizzazioni internazionali su come interagire con i paesi di recente indipendenza come i paesi del sud del mondo e da un lato c'è l'idea del commercio e la fiducia nel commercio come elemento che aiuta la crescita economica e questa è un'idea badate bene che è comune a nord e a sud e anche le riflessioni sul centro periferia sul declino delle ragioni di scambio per i paesi in via di sviluppo sono compatibili con questa fiducia nel mercato nella fiducia nel commercio internazionale nel garantire la crescita certo con dei meccanismi correttivi dal punto di vista del sud del mondo ma l'idea trade not aid cioè è il principio che passa nel consiglio economico sociale e poi nell'UNCTAD è questa quindi da un lato il commercio dall'altro l'aiuto allo sviluppo con il fondo europeo di sviluppo che nasce assieme alla comunità e che sostanzialmente include politiche di estensione dell'aiuto che una volta era aiuto coloniale pensato come estensione del welfare all'impero alle zone periferiche dell'impero e che all'interno dello schema delle comunità e poi ancora quando quelle comunità diciamo perderanno la comunità europea perderà la dimensione imperiale con la decolonizzazione diventano politiche diventano politica estera cioè questo passato con la decolonizzazione il motivo veramente importante e la cosa che veramente cambia durante la decolonizzazione è che tante delle politiche che sono nate sono state pensate come politiche coloniali commerciali e di aiuto diventano politica estera e questo infatti è quello che succede quello che succede a partire dal 1958 una nota brevissima volevo far presente che le leadership africane e panafricane oltre che i terzomondisti diciamo alla Fanon sono molto critici naturalmente nei confronti del regime di associazione di queste idee che vedono come la prosecuzione dell'impero con gli strumenti che sono strumenti dell'impero ma poi l'impero è crolla e dal 1958 non dal 1954 è vero Dien Bien Phu è un grande shock per la Francia ma non basta neanche Suez infatti basta dal 1958 quando fallisce il progetto della Comunauté quando la Francia si ritrova in una crisi fortissima istituzionale culturale costituzionale che la spinge a una trasformazione che molti non vogliono in realtà ecco proprio dal 1958 secondo me che è evidente che il crollo è evidente che i regimi imperiali non ci sono più e che non ci saranno presto più e che gli imperi coloniali sono destinati a crollare e allora subito la stampa europea reagisce e si chiede che cosa che cosa succederà con le indipendenze africane 1957 Ghana 1958 il gran rifiuto della Guinea che secondo me è il momento clou in cui c'è questa consapevolezza del fatto che gli stati africani non sono non sono più disposti ad accettare le logiche del del passaggio al post coloniale pensate dagli imperi beh allora e poi 1960 l'abbiamo già evocato tante volte la grande ondata degli imperi l'anno della fine delle indipendenze africane 1960 l'anno dell'Africa e di fronte a questi a tutti questi avvenimenti tutti mcmillan parla di wind of change e tutti si rendono conto che ormai gli imperi coloniali non ci saranno più e allora cosa comincia comincia a un grande sforzo per tradurre gli articoli dei trattati di roma che erano stati negoziati con tanta cura e tanto sforzo per mantenere le prerogative imperiali gli articoli dei trattati di roma relativi all'associazione diventano sostanzialmente i primi atti di politica estera dell'Europa unita in fondo perché vengono trasformati nella convenzione di Iaondev allora io di solito sono lì già ma a volte mi perdo allora la 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 questione la questione della trasformazione imperiale della centralità dell'impero è una cosa che non è solo caratteristica della nascita dell'Europa ma che permane per tutta la storia dell'integrazione europea quando si parla di ingresso della Gran Bretagna l'impero è centrale è centrale per i francesi che non vogliono che la Gran Bretagna entri con tutto il suo impero in realtà è dietro ai gran rifiuti degli anni 60 c'è molto anche questa dimensione è centrale per i britannici che si sforzano in tutti i loro in tutte le loro proiezioni verso il progetto europeo di salvaguardare i legami speciali con il Commonwealth nel 1972 tanta tantissima parte delle tradate noi parliamo quasi sempre di politica agricola comune ma sì certo la politica agricola comune significa inserire le colonie e il loro peso anche in quanto produttori di beni di consumo per il mercato alimentare per i beni che hanno a che fare politiche che hanno a che fare con la politica agricola comune beh dicevo che nel 1972 il protocollo 22 che è la chiave dell'ingresso della Gran Bretagna nella comunità è uno dei temi più più importanti e quando si comincia a parlare di politica estera europea e siamo a Copenaghen nel dicembre del 1973 il famoso documento sull'identità europea beh ecco e allora andiamo a parlare di che cosa significa essere europei e di eurocentrismo no in fondo nel ranking stabilito all'interno del documento che appunto è un documento che definisce l'identità europea siamo nel 1973 i paesi associati chiamati così le ex colonie sono al secondo posto degli interessi della comunità europea vengono subito prima delle relazioni con i paesi mediterraneo e africani at large e molto prima degli stati uniti che sono al posto numero quattro nonostante la guerra fredda nonostante siano così fondamentali per la difesa dell'europa con armi atomiche siccome ho finito il tempo non posso poi dire molto del progetto del progetto europeo della versione dell'europa comunitaria di come si propone all'interno della politica globale solo restando agli anni settanta che sono un motivo un momento di veramente fondamentale di definizione identitaria il rapporto delle relazioni le relazioni nord-sud del rapporto dell'europa con le ex colonie come appunto evidente nella dichiarazione che citavo prima ma è ancora più evidente nel lavorio che viene fatto intorno alle riforme istituzionali necessarie per raccogliere la Gran Bretagna nel progetto europeo beh l'identità dell'europa è chiaramente formulata in termini di rapporto nord-sud l'idea di Europa potenza civile che vi sarà senz'altro nota lanciata da François Duchenne fra il 72 e ufficialmente l'articolo che ne parla nel 1973 è appunto questa è l'idea che siamo dopo il 78 l'attenzione per la giustizia sociale che c'è in Europa si traduce in un rinnovato interesse per la povertà all'estero io devo naturalmente chiudere e chiudo dicendo questo facendo un grande salto e non parlando del modello ma se volete mi chiedete nella discussione ne parliamo nella discussione la promessa e quanto il modello questa riscoperta di questa identità o l'affermazione di questa identità europea nella dimensione nord-sud possa essere utile per guardare al futuro secondo me se la politica e non sono io l'unica a pensarla ma non siamo in tanti se la politica europea fosse più consapevole e facesse e trasmettesse questo messaggio relativo al fatto che l'Europa non è solo la piccola Europa ma l'Europa è uso il termine l'Eura-Africa ha una dimensione molto più ampia tradizionalmente è nata con questa dimensione molto più ampia allora anche dal punto di vista culturale la possibilità di portare avanti un ruolo propositivo dell'Europa di fronte alle crisi delle migrazioni che stanno colpendo la politica dell'oggi è una prospettiva che può avere buoni frutti grazie grazie a San Lorenzini anche per questo ultimo suo apertura diciamo su le prospettive di Euro-Africa sarebbe interessante fare una storia delle varie idee di Euro-Africa forse c'è non la conosco perché anche in vari contesti c'è un'elaborazione su Euro-Africa credo che a questo punto sia opportuno fare una una pausa direi come ieri di dieci minuti sono a mezzogiorno meno dieci ci rivediamo per riprendere i lavori grazie bene ritemprati dalla pausa proseguiamo la nostra sessione sull'Europa nel mondo la prima relazione di Nicola Melis dell'Università di Cagliari che ha un profilo di studioso ottomanista con una ampia competenza anche filologica che va dall'arabo al turco passando per l'ottomano e che ha supportato i suoi percorsi di ricerca che hanno una durata diacronica piuttosto ampia soprattutto poi con degli studi dell'età sull'età moderna e quindi va nel senso che già osservava Agostino Giovagnoli di come pur da una prospettiva di contemporaneisti in una iniziativa della Sisco come questo seminario però si avverta la necessità di uno sguardo di più lungo periodo a cui però vorrei aggiungere una osservazione proprio relativamente al tema che abbiamo affidato a Nicola Melis il Mediterraneo baricentro europeo punto interrogativo che è un'osservazione sulla storiografia italiana e su cui più volte nella nostra redazione ci siamo soffermati cioè sulla carenza di studi e di studiosi che abbiano messo al centro delle loro itinerary di ricerca il problema del Mediterraneo in età contemporanea che per contemporaneisti perché invece tra medievisti medernisti è un tema piuttosto sviluppato ma mi pare che sia una carenza che susciti qualche riflessione cioè come in una comunità scientifica come quella dei contemporaneisti italiani vi manchi una focalizzazione importante sul Mediterraneo in età contemporanea e credo che però Nicola Melis ci aiuterà quantomeno a porci delle questioni nelle sue studi sulla storia ottomana ha sviluppato molto e sta sviluppando adesso i temi dell'Africa ottomana quindi credo che questo sia un punto di vista importante come ho detto precedentemente il professor Canavero non ha ascoltato perché abbiamo siamo gentiluomini teniamo fede alla parola data abbiamo assegnato ad ognuno 30 minuti e questi 30 minuti non li togliamo ma se qualcuno riesce a contenersi questo è molto apprezzato perché favorirà poi più tempo per il dibattito prego allora grazie mille in primo luogo vorrei ringraziare Giorgio Delzanna e tutti gli organizzatori di questo bellissimo seminario che sta dando diversi spunti di riflessione allora il titolo di questo mio intervento l'ha dato un po' l'accento un po' Giorgio io cercherò di rispondere un po' a questi quesiti in realtà vorrei andare proprio a partire dal titolo oltre l'eurocentrismo forse l'ho presa proprio la lettera la faccenda perché forse in maniera un po' provocatoria mi verrebbe da dire che parlerò in temini non per niente eurocentrici e molto più ottomanocentrici quindi abbiamo preparato un powerpoint che poi con questo computerino nuovo che ho danneggiato in realtà ho preparato una cartina che visualizzava perfettamente quello che voglio dire cioè una visione in cui c'è l'Europa perché appunto studiare l'Europa nel mondo contemporaneo e quindi nel caso di una visione ottomanocentrica cosa c'entra l'Europa sicuramente c'entra adesso cercherò magari di inquadrare meglio il discorso nel senso quale Europa in un discorso ottomanocentrico sicuramente prima di tutto l'Europa ottomana il resto è fuori e poi il titolo il Mediterraneo baricentro europeo un po' l'ha suggerito Giorgio e quindi io mi ponevo ma il Mediterraneo baricentro europeo potrebbe essere anche l'Europa baricentro del Mediterraneo soprattutto se vediamo in un'epoca post-ottomana si parlava prima di discorso europeo Barcellona 1995 c'è stato l'apice di quest'idea no che forse è andata un po' in declino ma non voglio divagare io voglio parlare di impero ottomano e prima di tutto voglio fare come è stato fatto ieri forse da te chi è che aveva dato delle definizioni precise io parlo di impero ottomano e quando parlo di impero ottomano voglio chiarire che non sto parlando di Turchia questo è un equivoco che spesso continua ad esserci anche nella storiografia di illustri studiosi si usa il termine Turchia come sinonimo di impero ottomano prima dell'ottobre di 1923 ecco io non sono d'accordo cioè o meglio sono d'accordo e non sono d'accordo sono d'accordo se si citano i documenti quindi nei documenti europei sicuramente sicuramente Turchia è il sinonimo di impero ottomano e Turchi è in qualche modo sinonimo di ottomani musulmani viene usato un po' interscambiabilmente questo nei documenti europei d'altro ho fatto ricerca per esempio a Venezia ho trovato documenti nel 1330 in cui si parlava di Turchi però cosa si intende per Turchi si intende la matrice originaria di quella di quello che è lo Stato ottomano ossia popolazioni nomadi turcofone che nel loro nel loro flusso migratorio chiamiamolo così sono arrivate al confine con l'impero bizantino per popolazione 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 propugnavano l'idea questa è una vecchissima tesi storiografica di Polvitek Memet fu a Coppellou parlo parlo di inizio del 1900 si diceva l'impero ottomano nasce come stato di da un nucleo ecco di un emirato seminomade che va stanziarsi al confine dell'impero bizantino per condurre un jihad contro il nemico cristiano tra i vari emirati turcofoni sempre di popolazioni che arrivano dal Centrasia dalla Mongolia interna dallo Yenisei proprio da lontanissimo prevale prevale questo emirato perché prevalga questo sui tanti altri emirati oggetto di ribattito storiografico ma non intendo trattarlo qui però se andiamo arriviamo al 1500 vediamo che già vediamo che già per esempio l'ambasciatore di Carlo V negli anni 60 scriveva stupito tra tutte le popolazioni al mondo che io abbia conosciuto gli ottomani sono quelli meno interessati alla loro stirpe o alle loro origini diciamo etniche diremo oggi questo diceva perché hanno cominciato da subito a fondersi con tutte le popolazioni con tutte le popolazioni locali dei luoghi che hanno conquistato e non solo anche di quelli confinanti e quindi infatti se io vado a vedere i documenti d'archivio ottomani la parola turca turco non appare mai ma faccio un discorso di lungo periodo dal 1552 anno del primo esiste una raccolta di documenti importanti si chiama proprio Muhammed Efterleri registri degli affari importanti che raccolgono minute trattati di pace vengono collezionate raccolte in maniera proprio quasi maniacale dai burocrati ottomani e se facciamo un discorso proprio rozamente quantitativo il termine turco non appare è sempre Devleti Osmaniye Stato ottomano ovviamente non stiamo parlando di Stato moderno quindi non mi voglio dilungare troppo su questo aspetto mi interessa magari richiamare richiamarmi a quello che scriveva in maniera molto brillante un grande ottomanista scompasso qualche anno fa Donald Quotert la cui sintesi di storia dell'impero ottomano esiste anche in un'ottima traduzione italiana ve la consiglio assolutamente edita da Salerno Salerno Editore ormai una decina di anni fa occhio croce cito in sintesi no non cito vi dico soltanto che richiamava un dato interessante che l'ambito territoriale post-ottomano comprende oggi 30 paesi 30 paesi ovviamente la Turchia è il nucleo principale di questo discorso ma comprende 30 paesi quindi questo rettaggio post-ottomano in qualche modo più o meno negato per questioni più ideologiche di stati nazionali quindi più ideologiche che per questioni storiche in realtà possiedono in uno loro modo un rettaggio ottomano che in qualche caso è addirittura riscoperto leggevo un dibattito tra storici diciamo della post-Yugoslavia per intenderci dove il paradigma storiografico era quello anche nei manuali di storia si diceva si fa la storia del singolo paese della Serbia eccetera un paragraffetto un capitoletto sui tanti secoli di gioco turco liquidato così quindi tre quattro cinque secoli tutti di gioco di gioco turco ecco in questo dibattito che è una tavola rotonda che ho seguito c'erano degli storici slavi ex-Yugoslavi adesso non mi dilungo che rivalutavano il discorso della Pax ottomanica il discorso il discorso che pure è stato ormai è portato avanti da numerosi storici in questi ultimi anni della pluralità ottomana non intesa in termini anacronistici trionfalistici di una pluralità come si potrebbe intendere oggi no lo stato ottomano era uno stato che si basava sulla diversità sulla pluralità di situazioni e che e che basava la sua concezione di stato su alcuni elementi quindi mi dispiace che sia andato via il professor Campanini ma per esempio io non condivido molto un discorso che pure viene fatto e mi interessava sapere la sua opinione per cui l'impero ottomano raggiunge il suo apice un'altra tesi storiografica un cliché storiografico ormai ampiamente superato non è si potrebbe mettere questa pennina chiudiamo perché ho perso ho perso il il powerpoint però prima velocemente ho fatto un altro powerpoint con le copertine di alcuni testi così se si vogliono alcuni riferimenti storiografici allora la teoria quella classica superata è che l'impero ottomano abbia raggiunto il suo apice con Solimano il magnifico o il legislatore a seconda delle fonti che muore nel 1566 e da lì comincia il declino un declino quindi voi ragioniamo il declino comincerebbe nel 1566 e finirebbe nel 1923 ebbè è un un declino di lungo periodo in genere vediamo il declino dell'unione sovietica nel 79 era in Afghanistan nessuno pensava che sarebbe finita quanti anni dopo 12 qua invece dal 1566 al 1923 fate voi i calcoli ecco questo questo cliché storiografico è stato ampiamente superato ah ecco perfetto era proprio questo questo testo qua New approaches to state in peasant in Ottoman history basta leggersi l'introduzione di due insigni studiosi è un libro già datato mi sembra che sia non voglio sbagliare del del 90 del 91 1990 91 ovviamente Halil Berktai e Suraya Farouki loro in questo testo dimostrano brillantemente che sì possiamo parlare di apice di impero mondiale all'epoca di Suleyman e dei suoi figli poi per varie ragioni contingenti legate in un discorso di storia globale l'afflusso dell'argento dalle americhe insomma tutta una serie di fattori comincia un periodo di crisi però l'andamento non è non è una curva che scende inesorabilmente per secoli e secoli è un andamento sinusoidale che conosce anche momenti ancora validi mi viene in mente la seconda metà del 1600 che per noi ottomanisti è conosciuta come età dei Kjöplülü dalla dinastia di Kjöplülü che ha governato in quella seconda metà di secolo che tra l'altro ha dato origine anche a insegni studiosi quel Kjöplülü che dicevo d'inizio 1900 un discendente di quella dinastia ecco in quel periodo l'impero ottomano raggiunge in quegli anni che raggiunge la sua massima espansione questo viene spesso trascurato e dove la raggiunge in Europa addirittura viene costituito il Podolia Eyaleti il Eyaleti di Ucraina per intenderci non durerà moltissimo durerà proprio per l'imperiore perché con la pace di Karlovic nel 1699 viene restituita ai sovrani polacchi però intanto abbiamo un impero ottomano ancora temibile nonostante il mancato assedio di Vienna nel 1600 quindi diciamo tutta una serie di cliché che andrebbero andrebbero superati a cominciare dal a cominciare dal dal nome stesso gli ottomani per definizione erano degli eurofili pur essendo ottomano centrici mi spiego se noi andiamo a vedere la costituzione dell'impero ottomano in quel lontano 1299 quello emirato è quello proprio confina con l'impero bizantino ed è proteso verso l'Europa allora la capitale è una capitale mobile cambierà altre tre volte la capitale fino ad arrivare nel 1453 e scegliere Costantinopoli altro cliché nei documenti ottomani non si parla mai di Stambul fino all'inizio del 1900 è sempre Costantiniglie è sempre Costantinopoli diciamo è un impero proteso verso l'Europa e quindi un'Europa che vuole essere ottomana e che quindi vuole 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 essere un'Europa sotto la dinastia ottomana il principale stato islamico e quindi quali sono le matrici dello stato ottomano sono sicuramente una matrice turcomana quella resta e restano elementi poi c'è una matrice diciamo quella che Lapidus chiama paradigma islamico medio orientale cioè retaggi di imperialità chiamiamola così statualità persiana e bizantina mediata attraverso l'esperienza omaiane ma soprattutto a Basside e poi con le dinastie successive che gli ottomani prendono quindi esperienza bizantina mediata dall'esperienza a Basside ma esperienza bizantina ottenuta come dire per via diretta questo con buona pace di una monografia tradotta anche in italiano per dimostrare per questioni ideologiche che di bizantino non c'era niente nelle istituzioni ottomane e quindi questa vocazione europea ottomana che già negli anni 50 una stella un'astronascente della turcologia che morì precocemente una specie forse sembrerebbe quasi una specie di Giulio Regini Anteliteram Enzo Iemma Junior scrisse un bellissimo articolo su un Oriente moderno mi sembra del 1951 in cui parlava di vocazione europea della Turchia partendo appunto da questa idea ottomana prima si parlava di Stato nazionale quando si può parlare di Stato nazionale nell'impero ottomano non si può parlare di Stato nazionale nel senso nazionale moderno uno Stato al massimo il nazionalismo che può essere abbracciato nell'impero ottomano è un pan-nazionalismo come diceva Vammeri rifacendosi all'esperienza del pan-slavismo e del pan-germanesimo con il termine pan-ottomanismo e pan-islamismo e qui siamo già in età contemporanea schietta stiamo all'epoca di Abdul Hamid II il cosiddetto Sultano Rosso quello che secondo un altro cliché storiografico avrebbe interrotto la tradizione di riforme delle transimati dell'impero ottomano e che in realtà ormai qualsiasi studioso serio dell'impero ottomano sa benissimo che non è vero come sa benissimo anche Giorgio Delzanna visto che l'ha scritto cioè che la tradizione di riformismo delle transimati viene interrotta da Abdul Hamid II nel senso che non vuole i progressisti della situazione li toglie di mezzo e dice adesso le riforme le faccio io mi attornio da burocrati efficienti e faccio le riforme e quindi in questi secoli di storia ottomana vediamo sempre una governance ottomana per riprendere in questo termine obiettivi strategici che sono continuamente mediati contrattati per dare un discorso per dare un'idea nuova di Stato che cambia nel tempo e questa è la ricchezza dell'impero ottomano che gli permette di resistere così tanto tempo non esiste una situazione statica è continuamente mediata e questo va contro la storiografia generalista che invece rappresenta in maniera statica con qualcosa che era tutto tranne che statico anzi forse il problema principale che era troppo cangiante era difficilmente definibile se non inquadriamo le coordinate spazio specifiche stiamo un po' generalizzando stiamo troppo generalizzando e quindi mi viene da parlare dicevo prima 30 stati che emergono dalla precedente esperienza statuale ottomana ognuno con le sue peculiarità quindi storiografie nazionali che spesso sono storiografie nazionaliste in buona parte assumono il il cliché del secolo di gioco turco e questo valeva anche per le storiografie arabe se non che ci sono state nuove tendenze nel mondo arabo sicuramente lo studioso che forse più di tutti ha dato un contributo in questo senso a superare questa ottomanofobia che è intesa però come turcofobia è Abdelgelil Temimi già negli anni a fine anni 70 ma soprattutto negli anni 80 e 90 attraverso anche due pubblicazioni che continuano ad esistere Review di Stoar Magrebin Arab insomma rivista araba di studi ottomani un'arba del genere rivista storica araba di studi ottomani ha cercato di inserire la globalità ottomana in un non come storia della Turchia e comunque ci sono vari studi soprattutto in questi ultimi anni mi verrebbe in mente ecco questo è uno studio da cui non si può prescindere ovviamente esiste una storiografia una storiografia scritta nelle lingue nazionali che è quella un po' più datata che tendeva ad essere come si dice autoreferenziale per questioni ovvie di lingua ora buona parte degli storici sia arabi che turchi per il mondo balcanico pure c'è questa situazione hanno tutti studiato o negli Stati Uniti o in Francia e hanno portato il loro magari o in patria o sono rimasti all'estero quindi creando un filo di storiografici globali e spesso si inseriscono in un discorso di global history Selim de Ringhil un grande studioso questo testo del 1998 inserisce la storia dell'impero ottomano non nella sua specificità ieri si parlava di eurocentrismo di storia generale bisogna superarla è stato un momento di superamento quello degli studi d'aria però anche gli studi d'aria puri hanno il loro difetto spesso tendono ad essere autocompiaciuti eruditi scusate mi ero messo il timer 20 minuti quindi mi devo muovere ok dicevo gli studi d'aria quindi quando sono così autocompiaciuti chiusi in se stessi hanno sono l'altra faccia della medaglia di un discorso puramente eurocentrico chi era ieri caracciolo e disse l'altra faccia della medaglia cioè di chi è talmente esperto erudito in questo caso di storia ottomana magari di Europa ottomana si si mea della conoscenza delle fonti anche in termini filologici non le mette a disposizione in un contesto condiviso ecco questa nuova generazione che ha tra i capofila proprio Selim de Ringil autore di studi importanti e questo comunque è una bella sintesi pone l'impero ottomano in un discorso globale per cui anche certe dinamiche del mille legate al diciamo all'età dei nazionalismi all'età dell'imperialismo quindi 1800 sono inseriti in contesto globale però in effetti questo testo che ha fatto scuola ha dato luogo a tutto un dibattito e mi verrebbe da parlare poi magari torno su altri testi se resta il tempo su un altro testo che mi piace parecchio non so se posso chiedere la cortesia non questo questo magari ne parliamo dopo non questo sì questo è uno dei testi importanti Karen Berkey che sottolinea ecco sempre in termini comparati sottolinea le specificità ottomane e le raffronta poi con le similitudini quindi però il testo che mi interessava è soprattutto questo che viene dopo The Ottoman Scramble for Africa Empire and Diplomas in the Sahara in the Hijaz Mustafa Minawi questo è un testo direi fondamentale uscito tipo un anno e mezzo fa quindi recentissimo un anno fa poco più riprendendo anche la lezione di Selim Denigil mette in discussione tutta una serie di paradigmi consolidati e non difficilmente messi in discussione tra questi tra questi discorsi tra questo riprende il discorso di Selim Denigil della mission civilisatrice ora l'impero ottomano del 1800 era proprio essendo uno stato in crisi le fonti europee dicono il gran malato d'Europa in realtà l'impero ottomano era sotto pressione però grazie a questa sua fluidità cercava continuamente di adattare di creare una risposta al pericolo incombente allora anche io cerco di dare un'adattazione un'adatto importante è sicuramente il 1830 quando i francesi arrivano in Algeria perché è importante i testi scrivono l'Algeria era solo nominalmente ottomana gli ottomani non erano interessati a quel paese lì anzi le fonti europee proprio non parlano di territorio ottomano dicevo ieri non ricordo a chi è uno stato barbaresco in Italia abbiamo addirittura i filoni di studi di barbarescologia che ha come camposcuola Salvatore Bono che ha creato tutta una schiera di discepoli che cioè voi leggete qui i testi bellissimi non voglio mettere in discussione certi testi di Salvatore Bono però l'aspetto puramente ottomano sembra un optional cioè si parla di turchi di barbareschi barbareschi sì nella tradizione medievale tradio medievale si parlava di berberia è rimasto quel termine io mi chiamo Nicola mi volete chiamare Gianfranco a un certo punto mi rassegno anche ma le fonti non dicono quello barbareschi sono nelle fonti europee quindi anche lì un neurocentrisimo esagerato perché si studiavano solo le fonti europee attuando una lettura quindi delle fonti locali o centrali perché locali vuol dire di Tunisi ma ci sono anche quelle di Istanbul barbareschi non appare mai ecco è rimasto fino al 1830 un'idea di come dire di comunità sì di comunità spirituale ottomana cioè anche ad Algeri nessuno metteva in dubbio la superiorità ottomana quando i francesi occuparono l'impero ottomano e l'Algeria a Istanbul ci rimasero malissimo le fonti sono chiare fu un trauma infatti le Transimat hanno un riscontro già prima del 1839 che è l'anno dell'importante riscritto nel 1835 comincia l'occupazione diretta della Libia che viene detta reoccupazione ma chi l'ha detto reoccupazione no è una declinazione in termini contemporanei di quell'epoca si cerca cioè di realizzare un tipo di controllo che è proprio di quei tempi e che non c'è mai stato prima perché lo si intendeva in altro modo quindi 1835 l'impero ottomano in crisi allora cerca di rispondere come e poi nel discorso della missione civilizzatrice l'impero ottomano apparteneva alle nazioni civilizzate o erano o apparteneva alle nazioni ai popoli barbari quelli con l'anello al naso la lancia e la banana come si poneva quindi banana o intelletto e allora sicuramente una via di mezzo una via di mezzo e questo anche nelle fonti europee si può riscontrare già 1840 chiudo 1840 all'onda ma soprattutto dopo la guerra di crimea l'impero ottomano farà parte del concerto europeo sì certo è malatticio ma lo accogliamo è già questo un riconoscimento e da quel riconoscimento l'impero l'impero ottomano trarrà cercherà di realizzare di presentarsi come stato moderno e quindi un come si dice un gruppo di esperti di diritto internazionale che soprattutto all'epoca dello Scramble for Africa quindi a Berlino diciamo per l'impero ottomano ci sono due Berlino quella del 1878 che ridimensiona il trattato di Santo Stefano imposto dalla Russia e Berlino 1884-85 ora voi prendete i testi sulla conferenza di Berlino c'è scritto che c'è l'impero turco e poi e poi niente anche Wesseling che è stato citato ieri bellissimo libro sulla spartizione dell'Africa che spazio dà l'impero ottomano niente però se noi andiamo a vedere i documenti d'archivio il lavoro ferveva ci si basava su due principi della conferenza di Berlino quello della presenza dell'eredità storica e l'impero ottomano cercò di dimostrare che nei vari territori c'era e facendo questo però attuò un qualcosa che può assomigliare più a quello che fece il Portogallo perché nel suo quadrante geopolitico cioè nella sfera di egemonia dove magari non era mai arrivato direttamente pretese di portò la prova che in realtà c'era da secoli e che quindi quello era un territorio ottomano proprio come facevano le altre potenze imperialiste ovviamente lì prevalse la forza perché in effetti le argomentazioni giuridiche erano tutte molto forti le competenze giuridiche erano assolutamente erano assolutamente inoppugnabili però lì era la legge la più forte e quindi l'impero ottomano perse nell'81-82 Tunisia l'Egitto è un caso è un caso veramente particolarissimo perché agiva come se fosse quasi indipendente non indipendente in realtà c'era un un protettorato invisibile fino al 1914 invisibile i britannici ci sono ma non ci sono io vengo a casa tua la occupo ma te ne vai no ma io non ci sono questo succede in Egitto nel frattempo vanno anche a occupare il Sudan però sono formalmente ottomani però l'impero ormai sa di averlo perso la Tunisia è persa resta la Libia e la Libia diventa uno un discorso in cui si sviluppa se vogliamo anche un discorso mediterraneo io non posso continuare mi pare non so se io ringrazio Gianfranco per questo discorso turcocentrico no quanto ci ha detto Nicola Melis credo il titolo che abbiamo pensato da questo mediterraneo baricentro dell'Europa punto interrogativo credo che introduce due elementi che danno spazio a riflessioni cioè innanzitutto che il mediterraneo è policentrico quindi in qualche modo questo discorso che tu fai sull'impero ottomano è verissimo cioè l'impero ottomano inizia un declino che non finisce più ecco speriamo che sia il declino della nostra vita che duri così a lungo ma e questo è l'altro aspetto è che è multiassiale il mediterraneo cioè che le dinamiche mediterranee non sono solo su un'asse nord-sud riva nord riva sud in cui forse il il processo o non processo non so di integrazione europea lo ha letto in questa ottica probabilmente anche più corrispondente forse al periodo della seconda metà del novecento ma anche delle dinamiche est-ovest cioè oriente-occidente che attraversano il mediterraneo grazie con l'ultima relazione che è quella di Alfredo Canavero studioso conosciuto dell'Università Statale di Milano che ha frequentato temi diversi da quelli della storia politica italiana alle vicende del cattolicessimo europeo a quello della storia delle relazioni internazionali affrontiamo un aspetto di questo nostro tema che è l'aspetto diciamo religioso in questo itinerario dalla cristianità europea al mondo del pluralismo religioso come in fondo da questo punto di vista esaminare quello che è il tema complessivo del seminario quindi grazie Alfredo per la tua partecipazione ti ascoltiamo volentieri grazie io parto da un discorso da un'omelia tenuta dall'allora arcivescovo di Milano non ancora cardinale Giovanni Battista Montini all'Alpe Motta nel 1958 Montini dice noi siamo andati incontro alle guerre perché la nostra gioventù ha sognato dei particolarismi e degli egoismi e un giorno questi sono scoppiati in bombe e sono scoppiati in odio sognate l'amore sognate la fraternità sognate la pace sognate l'unità sognate tutto quello che di bello che di grande che di buono l'umanità può desiderare sotto la luce cristiana sotto la luce umana parole che rilette oggi assumono anche un tono profettico un tono di grande attualità questo richiamo di Montini all'unità alla pace alla fraternità basate sul cristianesimo ma più che altro basate sul sentire religioso mi sembra un buon punto di partenza per fare qualche riflessione su cristianesimo pluralismo religioso negli ultimi sessant'anni quando Montini tiene la sua omelia erano trascorsi appena 13 anni dalla fine della seconda guerra mondiale le ferite del recente passato erano ancora aperte le distruzioni e gli odi degli anni di guerra erano ancora vivi della memoria anche se i primi passi del processo di integrazione europea cominciavano a modificare i rapporti tra gli stati non meno che i rapporti tra le persone il problema dell'integrazione europea lo dice ancora Montini nella stessa omelia non è qualcosa che può lasciare indifferente la chiesa perché diceva citando Pio XII se l'Europa vuole fondare la sua unità sopra delle basi forti e solide e permanenti e sincere dovrà fondarle su una base religiosa sono anni in cui il sentimento religioso in Italia è ancora vivo e la partecipazione al culto consistente ma anche in Italia incominciavano a sentirsi gli influssi di una secolarizzazione che si era da tempo manifestata in altri paesi dell'Europa occidentale per non parlare poi a Oriente nell'Europa separata da quella che si definiva la cortina di ferro all'interno del blocco dei paesi comunisti vigeva l'ateismo di Stato che imponeva con metodi autoritari una visione antireligiosa fino ad arrivare a proibire come nel caso dell'Albania ogni pratica di culto considerata un reato però anche nell'Europa occidentale le religioni cristiane erano in declino nel paese della laicità della netta separazione tra Chiesa e Stato in Francia si parla apertamente di un paese di missione di un paese che deve essere rievangelizzato e lo stesso Montini a Milano aveva dovuto lanciare la missione di Milano riconoscendo di dover affrontare un problema religioso nella città nella stessa Roma nel centro della cattolicità nella città del Papa si riconosceva l'esistenza di isole da evangelizzare e la situazione non era certo migliore nei paesi a maggioranza protestante di fronte a un tale stato di cose la Chiesa cattolica risponde con il Concilio Vaticano II la cui attuazione peraltro come è noto fu lenta e non senza incertezze nell'esortazione apostolica Evangeli Nunziandi che è del dicembre del 75 Paolo VI affermò che lo scopo del Concilio si riassumeva in questo rendere la Chiesa del XX secolo sempre più idonea ad annunziare il Vangelo all'umanità del XX secolo riconoscendo esplicitamente la scristianizzazione di moltitudini di persone che hanno ricevuto il battesimo ma vivono completamente al di fuori della vita cristiana la crisi della religione come si è accennato non riguarda solo la Chiesa cattolica grazie non a caso è proprio in questi anni proprio attorno alla metà del XX secolo che si ricomincia a parlare concretamente di ecumenismo quasi che l'ecumenismo fosse un necessario strumento perché le religioni cristiane potessero far fronte comune all'ateismo dell'est e alla secolarizzazione dell'ovest non è possibile qui fare di nuovo la complessa storia del riavvicinamento delle confessioni cristiane tra la grande guerra almeno il concilio vaticano secondo rinvio alla bella sintesi che ne ha fatta qualche anno fa e tien fu you basti dire che è proprio in quegli anni in cui la chiesa quando la chiesa cattolica passa dalla strategia unionista cioè dalla semplice attesa del grande ritorno delle altre confessioni religiose all'ecumenismo cioè al dialogo con i fratelli separati e alcuni fatti sono significativi nel 1960 Giovanni XXIII crea il segretariato per l'unità dei cristiani affidato al gesuita tedesco Agostino Bea due anni dopo al concilio vaticano secondo vengono invitati rappresentanti di tutte le confessioni cristiane e anche questo era qualche cosa di inedito in questo clima di rinnovata attenzione alle altre confessioni cristiane seguono una serie al concilio di altre vicende significative l'approvazione del decreto unitatis red integratio con cui la chiesa abbandonava di fatto la visione ristretta della tradizione tridentina e sia pure con qualche esitazione che appariva qua e là nel documento parlava della divisione tra i cristiani come di qualcosa che cito non solo contraddice apertamente alla volontà di cristo ma è anche di scandalo al mondo e danneggia la santissima causa della predicazione del vangelo ad ogni creatura quindi non si parla più di ritorno ma di ricomporre l'unità dei cristiani grazie agli sforzi di tutte le confessioni segue poi l'approvazione della dichiarazione sui rapporti tra la chiesa e le religioni non cristiane la nostra etate che affrontava il problema senza facili irenismi ma in uno spirito di rispetto di amicizia di solidarietà sui valori fondamentali dell'uomo un rispetto che veniva esplicitato nei confronti di alcune religioni che venivano citate esplicitamente il buddismo l'induismo l'islam ma soprattutto nei confronti degli ebrei di cui si riconosceva il comune patrimonio spirituale e soprattutto si ripudiava l'accusa di deicidio che si diceva non può essere imputata né indistintamente a tutti gli ebrei allora viventi né agli ebrei del nostro tempo infine l'aspetto forse più significativo alla fine del concilio l'approvazione della dichiarazione sulla libertà religiosa la dignitatis umane che qualcuno ha definito la vera conversione cattolica all'ecumenismo l'affermazione del diritto alla libertà religiosa della illiceità per gli stati di imporre ai cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi la professione di una religione qualsivoglia o una sua negazione ma anche la dichiarazione che nessuno può essere costretto ad abbracciare la fede contro la sua volontà sono espressioni che innovano profondamente il modo di atteggiarsi della chiesa e dei cattolici non solo nei confronti delle altre confessioni cristiane ma anche delle altre religioni non si invoca più la libertà religiosa solo per la chiesa cattolica la libertà è solo per la verità ma per tutte le religioni e in qualche misura questo era una risposta al consiglio ecumenico delle chiese che qualche anno prima aveva adottato una dichiarazione sulla libertà religiosa nel corso della sua assemblea tenuta a Nuova Deli assemblea particolarmente significativa perché per la prima volta vi avevano partecipato anche le chiese ortodosse dei paesi socialisti che prima si erano autoesclusi a coronamento di questo nuovo spirito il giorno stesso dell'approvazione della dichiarazione sulla libertà religiosa vengono revocate le reciproche scomuniche fulminate nel 1054 tra la chiesa cattolica e la chiesa ortodossa gesto praticamente di poco conto ma altamente simbolico è stato giustamente notato che l'affermazione della libertà religiosa ha dato un nuovo posto alla chiesa nel mondo e un peso considerevole alla sua parola si potrebbe anche aggiungere che la dichiarazione sulla libertà religiosa ha favorito anche il processo di integrazione europea facendo superare il mito dell'Europa vaticana facendo venire meno sospetti e resistenze di alcuni gruppi protestanti ma anche per aver definitivamente messo da parte le idee di coloro il cardinalo Ottaviani tra tutti che ritenevano ancora la Spagna franchista il modello ideale di stato cattolico questa nuova attitudine della chiesa cattolica confortata da alcuni passi analoghi da parte del consiglio ecumenico delle chiese e della conferenza europei Sherkirchen che era stata fondata nel 59 a cui aderivano tutte quasi tutte le confessioni non cattoliche dell'Europa vetero cattolici anglicani battisti luterani metodisti ortodossi pentecostali riformati vari porta a novità di assoluto rilievo e come non mettere in relazione la nuova posizione della chiesa sulla libertà religiosa con la partecipazione alla conferenza di Helsinki della santa sede partecipazione che avviene a pieno titolo se non vado errato è la prima volta dopo il congresso di Vienna che la chiesa cattolica partecipa non come osservatore ma come partecipante a pieno titolo una partecipazione che era stata fortemente voluta da Paolo VI anche contro l'opinione del suo segretario di stato il cardinal VIO e soprattutto la firma al trattato di pace in particolare con una sottolineatura sul punto settimo dell'atto finale quello che dice rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali inclusa la libertà di pensiero coscienza religione o credo insomma una santa sede rappresentata da quel grande diplomatico che è stato Monsignor Agostino Casaroli si intendeva la libertà per tutte le religioni e non per il solo cattolicesimo e da qui nasce anche un nuovo modo di atteggiarsi nascono gli incontri di Assisi a partire dalla giornata mondiale di preghiera voluta da Giovanni Paolo II nell'ottobre dell'86 quando ben 124 rappresentanti di religioni cristiane e non cristiane si ritrovarono nella città di San Francesco per invocare la pace naturalmente questo era qualcosa che andava ben al di là dell'ecumenismo coinvolgeva tutte le religioni per la prima volta uomini e donne di fedi diverse si trovarono per pregare insieme e invocare la pace nel mondo Giovanni Paolo II non mancò però di sottolineare che non si trattava di ricercare un consenso religioso tra di noi o di negoziare le nostre condizioni di fede perché diceva ogni essere umano deve sinceramente seguire la sua retta coscienza nell'intenzione di cercare e di obbedire alla verità se si pensa a alcune affermazioni fatte non molti anni prima ci si rende conto dei passi avanti che sono stati fatti qualcuno magari parla di passi indietro ma insomma diciamo che c'è una evoluzione e nel discorso che poi tenne nella cattedrale di San Rufino ai soli rappresentanti delle chiese cristiane il Papa ribadisce ancora la necessità di impegnarci a continuare la ricerca di una piena unità e a superare le serie divisioni che ancora permangono certo le divisioni non vengono negate ma si invitano tutti chiesa cattolica compresa a cercare di superarle e nonostante l'ostilità di una parte della curia romana questa iniziativa della preghiera delle religioni per la pace viene poi ripresa ad opera della comunità di Sant'Egidio attraverso l'associazione Uomini e Religioni cosa che poi porta a risultati concreti insospettati insospettabili come il contributo alla pace in Mozambico firmata a Roma nel 92 o l'organizzazione del grande incontro per la pace tenuto a Bucarest nel 98 con rappresentanti di tutte le confessioni cristiane lo spirito d'Assisi fu in altre parole la vittoria del dialogo sul conflitto in un mondo che si avviava ad essere sempre più multiculturale e multireligioso lo sottolinea proprio Giovanni Paolo II in occasione della 24esima giornata della pace nell'86 dice nel mondo di oggi raramente l'intera popolazione di un paese appartiene ad una stessa convinzione religiosa o una stessa etnia o cultura le migrazioni di massa e i movimenti di popolazione stanno portando a una società multiculturale e multireligiosa in varie parti del mondo in tale contesto il rispetto della coscienza di tutti assume una nuova urgenza e presenta nuove sfide alla società nei suoi settori e strutture nonché ai legislatori e ai governanti da un certo punto di vista possiamo dire che anche la costruzione dell'Europa andava avviandosi sulla strada del pluralismo religioso a un'Europa dei sei prevalentemente cattolica seguiva l'Europa dei nove che immette anglicani e presbiteriani britannici e luterani danesi nell'ottanta poi con l'ingresso della Grecia ortodossa tutte le principali confritte